Buonasera a tutti cari telespettatori, gentili amici, pubblico nuovo che mi auguro nelle puntate a venire ci seguirà sempre più numeroso, benvenuti al nostro nuovo format. Io nelle intenzioni di questa sera spero sia la cosa, magari Vagna cominciamo subito a fare un percorso così gli amici hanno anche un confronto visivo di quello che voglio accennare, che si riesca a far trasparire quella che è la nostra filosofia imprenditoriale, la nostra etica, la nostra voglia di proporvi l'arte nelle sue svariate formi, chiaramente cercando di fare con voi un percorso che poi è sempre anche nella possibilità di essere in qualche modo condizionato anche da quelli che sono i vostri gusti estetici come questa sera abbiamo presentato, presenteremo velocemente facendo uno strappo alla regola quel meraviglioso profeta di Carlo Ariente, pittore che già ha suscitato grandi interesse nel giovedì scorso. Vorremmo fare un viaggio con voi, un viaggio veramente che spazia dalla più bella e ricercata pittura fiamminga, quella veneta dei primi decenni del Cinquecento, fino a un artista contemporaneo che io adesso qua, Vagna, spero tu riesca a farlo vedere, vedo anche questo gioco di specchi, guarda che meraviglia, concedetemi questo termine, ma un'opera molto interessante, artista già presente sul mercato internazionale, Giampiero Romanò, si tratta appunto, bravo Vagna che fa vedere subito i dettagli dell'opera, un artista molto interessante anche proprio per il concetto che vuole esprimere. Bando alle chiacchiere, luci e riflettori Vagna, accendiamo subito, se tu vuoi anche andare un po' a ritroso, riusciamo a far vedere anche quello che è l'insieme della nostra parete di questa sera. Devo dire che sono già enormemente soddisfatto perché mai come in queste due giornate di allestimento che abbiamo voluto progettare con un senso, con una logica, contestualizzato anche nel discorso pittorico, per quello che magari la pittura sacra, quella più fresca, più moderna, alle opere appunto che abbiamo accennato di pittura contemporanea, è stata molto visitata la galleria, quindi abbiamo riintrodotto anche i tappeti che riteniamo essere qualcosa di essenziale in quello che è l'ambiente e in effetti devo dire che io stesso riesco forse meglio a emancipare quello che è il mio concetto, perché alla fine della fiera le opere che voi andate ricercatele e collocate presso le vostre abitazioni, quindi cercare di contestualizzarle in un ambiente più familiare. Un abbraccio grossissimo agli amici che i soci seguono, hanno chiamato direttamente Dario da Portovenere, la signora Fernanda col marito Angelo, Giuseppe e Federica, dicevano che sono all'ascolto, le cose non capitano mai a caso. Dario caro, sono stato a Vicenza da due nuovi collezionisti, veramente in una meravigliosa casa, dove proprio questo connubio fra arte moderna, arredi antichi e la prima opera che noi abbiamo collocato di pittura antica è stata inserita sapientemente come capoletto, veramente un quadro che meglio non si poteva collocare e io spero di aver dato veramente una grande gioia, perché poi quando di fatto metà della vita la spendiamo in camera da letto, quindi il primo sguardo di quando si sveglia la mattina è sull'opera e l'ultimo quando si sicorica la sera, quindi una soddisfazione immensa. Complimenti davvero agli amici, perché hanno chiaramente anticipato quello che era il mio concetto di stasera, cioè di proporre del design, dell'arte moderna, chiaramente poi se il format piace e avrà successo, Dario è un grande professionista specializzato sia nella pittura fiamminga che nell'arte moderna o contemporanea, ci darà chiaramente un saggio della sua maestria, delle sue relazioni, porterà delle opere certamente più importanti, però il discorso era questo Vagno, quindi spero veramente che la premessa sia chiara a tutti, so già che ci sono degli amici che hanno adocchiato delle opere, perché poi c'è qualcuno che fa anche delle soffiatine ogni tanto, attenzione, quindi state veloci, se c'è qualcosa che vi piace non fate altro che comporre il numero in sombra e in pensione, parlerete direttamente con il sottoscritto, con Dario, con i nostri collaboratori, benvenuti e una buona serata a tutti. Prima novità assoluta Vania è il rame al numero 1, anche questa è una scuola emiliana, un olio appunto su rame, un quadro decisamente interessante sia per la rappresentazione che per la bellezza e anche la freschezza dei colori, anche questa sera ha proposto veramente la cifra irrisoria, ricordate amici, in queste serate del giovedì sera, io faccio un ritorno ancora anche a quello che è stata l'organizzazione del nostro palinsesto, saranno una prima puntata il giovedì sera condotta magistralmente da Federico, di opere importanti, coadjuvato da Dario, quindi una selezione di all master, spettori veramente ricercati, chiaramente per dei collezionisti anche forse più predisposti al grande investimento, ma comunque sia non titubate anche lì perché sono veramente delle proposte incredibili, ricercate sia per la qualità che appunto per il rapporto fra l'aspetto estetico e il prezzo reale vero e proprio, insomma io mi ricordo spesso anche l'amico Riccardo oggi stesso mi ha chiamato, mi raccomando, trasmetti come arso antico la realtà dei fatti, le visioni profetiche di Federico che andremo a scoprire probabilmente nel prossimo giovedì, ma come realmente chiunque vada a visitare delle fiere, delle esposizioni, la Biennale di Firenze, le più importanti d'Italia, sia non così improbabile incontrare delle opere che per un pubblico attento sono state presentate ben altre cifre in queste serate. Arsantica non vuole fare delle contistiche, dei regali, delle promozioni, vuole sempre darvi il meglio al miglior prezzo possibile, questa è la nostra filosofia, che voi siete interessati a oggetti di entità inferiore a livello economico, grandi opere, la nostra desiderio, la nostra volontà è sempre quella di darvi il meglio. Vagna proseguiamo, io spero che l'amico da Vicenza sia all'ascolto perché presenteremo velocemente il profeta di Arienti, qualcosa davvero straordinario, questa sera forse su fondo rosso c'è la percezione, vieni pure Vagna che andiamo direttamente a inquadrarlo, di quella che ha la sua bellezza, di quella che ha veramente il senso, l'immediatezza, la sua qualità, la ricercatezza, l'espressività del dipinto, un quadro straordinario davvero signore, attenzione da casa perché veramente c'è interesse forte da diversi collezionisti ma qui si compra qualcosa veramente di unico, un unico, un quadro dei più grandi maestri neoclassici italiani che chiaramente il professor Ferdinando Marzocca ha riuscito a impreziosire con l'attribuzione certa, con tutti i riferimenti che Dario farà molto, ci farà vedere, ci trasmetterà per dare ancora più credenziale a quella che è l'attribuzione assoluta di tale pittore, pittore veramente che riesce a rienterpretare forse cinque secoli di storia con la sua sapienza partendo dai modelli che oggi cattavaggeschi attraversando quella che era stata la pittura dei Carracci, la pittura bolognese, quindi una pittura molto interessante anche da quel punto di vista e addirittura ad anticipare forse quello spirito di Hayes che ha fatto proprio nella qualità, nella luce, nella descrizione del dettaglio così evidente, così raffinato alla sua grande maestria, questo è un quadro davvero per un grandissimo collezionista, un quadro introvabile, un unico certamente. Torniamo un attimo a ritroso perché dobbiamo ringraziare anche i nuovi amici Davide, Stefania e la piccola Alessandra, una giovanissima collezionista che già ho saputo frequentare c'è già interesse Dario? Sì abbiamo già fatto i complimenti, era l'amico di casa? Sì era lui che ringazza. Ah bene, sì facciamo vedere il riferimento, certo lo avevamo pretravato, allora mandiamo in sovraimpressione quello che ho appena appunto annunciato che era la collocazione, Vania esce un attimo e fai vedere anche un secondo solo l'architetto, poi mi piace veramente andare a fare un paragone, tu guarda veramente il confronto con una mano vera, vabbè poi la mia mano è abbastanza sovradimensionata forse, ma la bellezza veramente della descrizione della mano, nei suoi tendini. Facciamo vedere il riferimento Dario, allora quello che dicevamo, guardate qua la meraviglia, il quadro collocato, avevamo ecco la cartelletta di Arsantica che come sempre viene collocata sia per veramente la soddisfazione e il prestigio di essere andati noi stessi, come io spesso vado, ci tengo di andare personalmente a studiare assieme quella che è la collocazione, la giusta proporzione anche rispetto al contesto che vado a trovare, che vado a scoprire, io stesso sono di fronte alle novità. Veramente questi collezionisti, complimenti anche la signora, Dario addirittura è stato rintrodotto il filo a piombo, che non so lei penso lo sappia perché comunque è una persona molto preparata, veniva utilizzata da me, avendo fatto il ricevo artistico per fare le proporzioni nella figura, era una meraviglia veramente, allora quella signora giustamente, e poi per me è un entusiasmo enorme trovare un pubblico esigente, un pubblico veramente di essere certa di quella che è la collocazione al centimetro o al millimetro, ricordiamo anche gli amici di Torino, Dario, che abbiamo veramente sconvolto un corridoio per collocare un dipinto, ribaltato uno studio, un piacere, abbiamo finito circa metanotte dopo la fiera alle nove, terminata, ma è un piacere, è un piacere avere, poi è anche una responsabilità devo dire, perché alla fine per fare un buco in un muro direi che non è poi così difficile trapanare e fare un buco, ma fare un riposto giusto con la consapevolezza di fare io il meglio per voi e voi avere proprio il meglio di quello che è il vostro desiderio è sempre una discreta responsabilità, quindi spesso verifichiamo, in questo caso grazie alla signora davvero abbiamo fatto il piombo esatto, quindi meglio di così non potevamo beccare il centro, avevano le coordinate giuste. Bene, allora io descriverei un istante solo l'arrienti, poi se un amico fosse in visione e dovrebbe essere interessato all'opera ce lo posso dire senza, d'accordo Dario sì, chiaramente la riserva, la conferma, non è un obbligo d'acquisto, ma è un diritto di prelazione, di visione immediata, poi ormai veramente settimanalmente siamo in grado di spaziare in tutta Italia con i nostri collaboratori, ma ci teniamo a essere noi stessi e a farvi darvi veramente quella che è la nostra faccia se in televisione, ma anche all'interno della vostra abitazione. Stai sbirciando anche tu Vagna, i tappeti, sono due pezzi magnifici, poi Dario ce li illustrerà anche qui perché giustamente è giusto anche avere una delucidazione di quelli che sono i tappeti un po' passati di moda, ma certamente elementi fondamentali, compendio di arredo essenziali per dare la casa a un calore. Può ripetere Dario scusi? Francesco iniziamo già con le prime conferme, c'è interesse per la tavola al numero 9. E questo è un vecchio volpone, io posso immaginare chi sia al di là del teleschermo, questa era una delle chicche della sera, lo sapevo. Perché? Perché bisogna essere veloci amici nella vita, ci sono opportunità uniche. Questa lo era certamente, adesso io non so chi sia, io presumo, so chi segue in maniera molto assidua, con grande passione, facendo sì, un grandissimo investimento, ma anche condividendo questo amore straordinario per l'arte, penso che sia quel ragazzino che abita in zona Castello. Questo è un gioiello, questo è un gioiello. Questo te lo faccio spiegare dal dottor Pico, perché il dottor Pico veramente sta conducendo da anni anche una ricerca personale nella ricerca di quei prototipi fiamminghi, dalla bellezza, dalla cultura fiamminga, che penso sia forse l'unica in grado veramente di competere con quella italiana e sicuramente ci darà qualche dubbio di azione. Io ti posso solo dire che è un gioiello, su quello veramente non ho dubbi. Complimenti, bravo, perché è stato veramente velocissimo. Torniamo alla Riena. Bene, questa è la trasmissione che mi piace, Dario. Mi piacciono le trasmissioni attive con gli amici, è giusto che la facciano anche loro da casa, secondo il loro interesse. Spiegheremo velocemente, ripeto, l'Arienti per far capire all'amico l'importanza di Pito, penso ne abbia già avuto modo di capirne la settimana scorsa, dove è stato dedicato un ampio spazio, ma si voleva rivedere un'opera, quindi anche questa è una possibilità che daremmo agli amici da casa, su richiesta on demand, di ripresentare un'opera che a loro può interessare, che sono magari potenzialmente interessati anche a visionarla dal vivo, quadro veramente che parla da solo, questo è un quadro, uno dei quadri più belli che abbiamo avuto il piacere di presentare in assarticua, certamente per quanto concerne il periodo neoclassico negli ultimi anni, nelle ultime trasmissioni. Innanzitutto partirei veramente dall'intensità e dalla forza espressiva, che questo poeta riesce a trasmettere all'ospettatore con quasi un desiderio di ammonimento, guardate veramente l'immediatezza del gesto e l'abilità espressiva del pittore. Certamente una posa monumentale, quasi scuntoria, che vuole veramente andare ad ammonire quella che è la visione allo spettatore, come un riverbero, come per sosprenderlo in un istante con questo carico, con questa sapienza. La mano è veramente, Giovanni, vorrei che tu incroderassi in un istante solo per capire come è realisticamente delineata nella sua anatomia, nella sua bellezza, nella descrizione dei tendini, del polso contratto. Tu guarda la forza veramente di questo gesto così istintivo, così diretto. Poi qui si può veramente spaziare, amici, perché io immediatamente ricordo le prime opere che ho visto di Caravaggio, nella luce, nella forza veramente, che questa luce trasversale riesce a dare al profilo, riesce a dare all'anatomia, riesce a dare veramente alla forza di questo sgrardo, alla sapienza di questa barba che sembra essere descritta veramente come un'onda, come una mareggiata della Sturmongranza, guarda che veramente che dettaglio analitico, che capacità minuziosa nell'analisi del singolo pelo, questo è un pittore veramente amici da museo, un pittore straordinario. Ricordiamo, evoca appunto Modelli Caravaggeschi, di fatto, non si può non pensare alle matrici raffaellesche per quanto concerne la purezza della linea, dell'insieme, a quella che è stato il grande insegnamento di uno dei periodi più belli della pittura italiana, vale a dire appunto quella dei Carracci, quella della cultura bolognese e di fatto veramente alla chiave romantica tipica di Hayez. Io Hayez è uno dei pittori che amo di più in assoluto, ho avuto modo di vedere con l'amico Riccardo, tra l'altro se non erro, la mostra alle Gallerie d'Italia, mostra straordinaria veramente, io penso che un Hayez accostato a questo pittore non lo faccia sfigurare, sono certo, perché veramente questo è un quadro unico, questa è una meraviglia neoclassica che grazie certamente al professor Mazzocca che è riuscito a fare uno studio preciso, a darci l'attribuzione, ci ha fatto sognare per un mesetto, queste sono quelle opere Vagna che quando arrivano le teniamo celate e nascoste, perché questo è un quadro che già tu di impatto non puoi non rimanerne emozionato, non perché vogliamo dare dei grandi valori o sovravalutare l'opera, ma perché necessita realmente di un'attribuzione specifica. Quando c'è questa qualità il pittore si trova, questo è un dato di fatto assoluto, ricordiamo è impreziosito da cornice antica molto bella del 600, quindi questo è un connubio che veramente ha anticipato quello che è il desiderio di tanti pittori moderni, spesso vediamo, ci troviamo di fronte ad opere di, a concetti moderni contemporanei reinterpretati in cornici antiche e penso abbia un senso, perché questa forse è anche un po' la filosofia di questa sera, di tenere conto di tutta quella che è la bellezza della storia dell'arte, da prime forme di arte a quella appunto recente, contemporanea. Bene, io direi che questo l'abbiamo presentato, Vagna se l'amico fosse interessato non fatto che dircelo, possiamo già forse fare quello che volevamo fare Dario? Possiamo fare un giro di pannello, cosa dice? Abbiamo dei confronti anche da mandare? Allora mandiamo i confronti un istante ancora, scusi Dario poi io sono veloce perché abbiamo un problema con il canale? vediamo subito Vagna se riesce a condivare Dario dalla regia, perché è giusto che tutti ricordiamo, siamo in diretta dalle ore 21 alle ore 24 sui canali digitali terrestri, 126 861 Sky, per chi volesse invece seguirci in streaming, ci può trovare comodamente sul nostro sito internet, per le prenotazioni non fate altro che comporre lo 02 29 52 90 57, per delucidazioni del caso idem, non fate altro che chiamare il numero sotto indicato, siamo a vostra disposizione, vorremmo trasmettervi veramente questa sera la nostra filosofia, la nostra voglia di farvi capire quanto ricerchiamo l'arte, l'arte veramente ricercata e contestualizzata, ormai come questa sera veramente perché abbiamo cercato di ricreare degli ambienti domestici veri per meglio farvi capire la possibilità di inserimento a livello delle vostre case. Architetto, se d'accordo manderei un secondo, un paio di confronti dell'Arienti, siamo pronti per i confronti, allora grazie Dario dalla regia ai confronti, mi dica lei perché so che ne abbiamo selezionati oggi pomeriggio diversi, non so, ha fatto una sintesi, penso con l'autoritratto se non erro il primo. Esatto, questo è l'autoritratto di Carlo Rienti, conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, questa invece volevo farla vedere prima, è la Perizia, quindi il quadro è periziato, il quadro di Perizia, dalla massima autorità. Esatto, tutti i documenti. Poi torniamo alle opere di Carlo Rienti, questa è Pia De Tolomei, conservato alla GAM di Torino. Benissimo. Vittorio Emanuele II al Museo del Risorgimento di Bologna, quindi comunque un autore che è conservato nei principali musei di storia e di arte in Italia. celebrato veramente anche a livello internazionale. Ricordiamo tra l'altro fra le sue committenze la nobiltà lombarda con il principe di Belgio Ioso e soprattutto la straordinaria committenza austriaca di Ferdinando I, appunto grande imperatore che tutti ricordiamo e celebriamo. Dario, sbaglio o senza squillare un'altra tromba? Direttore, in tema anche con il risorgimento, con queste trombe da cavalleria... L'amico di Vicenza, vado con piacere, vengo veramente col cuore a farlo mostrare dal vivo perché questa poi, purtroppo devo dire che è migliorato notevolmente, anche grazie a Federico e a tutti i suoi progetti imprenditoriali, abbiamo deciso di creare questa sorta di negozio che è realmente un negozio, noi da domani mattina giriamo, stasera vedrete in diretta cosa vuol dire girare il pannello. Siamo consapevoli che nonostante la ricercatezza dei nostri strumenti la percezione dal vero cambi sempre un po', io vi faccio anche un esempio scherzoso ma tutte le volte, adesso è un po' meno Dario forse, però quando venivo anche soprattutto al sud, abbiamo un pubblico molto attento, molto caloroso, veramente straordinario, un abbraccio agli amici della Sicilia, presto verremo da voi, mi dicono architetto mi sembra un po' più grasso, un po' più magro di quanto la vedo in televisione, e l'abbiamo risolto questo problema Vania, perché anch'io ci tengo che la mia silhouette, vabbè è chiaro, la vivo per lavorare ma con enorme piacere, quindi spero che la percezione sia veramente reale di quella che è la bellezza di questo dipinto meraviglioso, complimenti davvero, verrò con enorme piacere perché ci tengo a farlo visionare, perché so che va in una casa ricercata, in una casa vera, con opere vere, tra l'altro è un grande collezionista d'arte moderna, complimenti davvero, quindi sono enormemente felice di portarlo alla sua visione. Allora Vania, torniamo a ritroso, Dario lei è pronto, questa sarebbe la zona rossa, la zona rossa l'ultimo giovedì del mese è riservata ad opere, veramente che abbiamo cercato di mettere al minimo di quella che è la nostra possibilità per darvi un'opportunità unica. L'altro contesto è quello invece dello special price, quindi con opere sotto i 3.000 euro, mentre le opere qui dietro verranno presentate a 3.300 euro. Questa sera, perché giustamente l'amico ci teneva ad avere nel miglior tempo breve possibile la visione di questo dipinto, abbiamo fatto questo strappo alla regola, quindi Dario venga con me, facciamo vedere gli amici da dietro, giriamo di fatto il pannello, quindi è un'operazione che speriamo non comporti nessun digerimento, chiedo un po' di attenzione nel gesto, magari girgo io, Dario vai, mi segua, poi andremo a risistemare il tutto, quindi complimenti all'amico, mettiamo l'arriente che poi chiaramente andremo a posizionare nel nostro cavo al sicuro, scusa Vania ti posso davanti, scusate le spalle, e andiamo a scoprire quella che era l'opera di questa sera, Federico non ce ne voglio, questa sera però dovevamo per forza avere questa possibilità di una doppia faccia abbiamo utilizzato il blu, però abbiamo rispettato la sua privacy della tenda, Dario, quindi direi che questo segreto non è stato svelato, questo è il senso di questa sera, Dario cosa faccio, lo accenno e poi magari vediamo un attimo, c'è anche interesse degli amici mi ha detto, giusto? Esatto. Questa è una trasmissione che ho fortemente voluto perché voglio che il pubblico conosca un meraviglioso amico, una persona veramente ricercata sia nel suo stile di vita, veramente una persona squisita, una persona di cuore eccezionale, che nella sua capacità veramente culturale, geografica, storica. Io penso di non aver mai conosciuto, mai incontrato nella mia vita una persona così preparata. Un abbraccio anche la sorella Tiziana, chiaramente anche lei, persona meravigliosa, che aggiunge sempre degli accenti, delle virgole a quello che Bruno mi sa regalare con la sua sapienza, con la sua preparazione, con la sua passione anche per l'arte vera e propria, perché è chiaro che per poter leggere, per poter indagare con questa sapienza la bellezza di certi dipinti, se non hai l'entusiasmo, se non hai la passione e cosa alquanto impossibile riuscire a dare le lucidazioni che Bruno dà. Ma torneremo in seguito Dario, perché questa era, tra l'altro lui penso sia a un congresso di medici, mi ha detto gentilmente di posticipare, non so se è tornato, però comunque era in programma ormai dopo le dieci e mezza, quindi direi di rispettare almeno questa scaletta. Sì, 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 tanto non... Allora, siamo a circa mezz'ora di trasmissione, due conferme, meglio di così Dario direi che il nostro forma comincia a prendere piede, è quella che è la nostra volontà, la nostra intenzione. Allora, io direi di... torniamo dopo da Bruno, dai, torniamo dopo perché così rispettiamo quella che è la nostra scaletta. Devo dire, altre novità di questa serie eccezionali in questo pittore vicinissimo a Londogno, a un passo, noi non l'abbiamo dato come attribuzione certa, nonostante abbiamo ricercato, come tutti e voi stessi fate giustamente, un'analisi veloce sul web di quello che è anche la quotazione del pittore. È stato espressamente dichiarato come Londogno, a nostro avviso, non arriva, ma non perché non arrivi per qualità, ma ci sono delle coordinate stilistiche che lo spostano più forse verso il grecchetto, quindi verso la cultura genovese, che comunque ha chiaramente caratterizzato questo discorso e questa descrizione degli animali, sempre molto analitica, con un'influenza fiamminga, perché diciamo questo è un genere che i fiamminghi importarono, ricordiamo, come poi sarà anche per il Duranti, altro pittore interessantissimo che va a descrivere gli animali, importarono, tra abito della Repubblica, tra abito della Senni Arminissima, Venezia, che tutti e me abbiamo nel cuore questi giorni per quel disastro, seguivo giusto l'altra sera una conferenza di Sgarbi, era veramente indemoniato e condivido pienamente perché non riuscivo a salvaguardare la bellezza di un patrimonio così importante per burocrazia, per problemi politici, è veramente una cosa inquietante ed agghiacciante. Avremo anche per questa passione e questa voglia anche di ricordare questo momento quel bellissimo interno di San Marco, questa sera che lo vedo già e che mi emoziona a vederlo, speriamo che veramente non ci siano stati dei disastri eccessivi e irriperabilmente irrimediabili. Che bello, ricchi complimenti, bravissimo che era un gioiellino, è stato velocissimo, lo sapevo che ormai sei molto attento, sei un connesso veramente di quelli più ricercati, quindi abbiamo queste due novità, abbiamo visto il rame, abbiamo i due interni di chiesa, c'è la bellissima tavoletta anche al numero 7, magari poi Dario interverrà in questo contesto che appunto come dicevo è una delle sue grandi passioni che da sempre ha coltivato, la pittura fiamminga, la pittura dei grandi maestri che hanno influenzato la nostra cultura. Caro Dario, vieni pure Vagna perché anche qui c'è un bellissimo Sant'Antonio in questa versione che certamente Dario andrà a illustrarci con la sua capacità perché anche qui c'è un'impronta fiamminga, questo è certamente un altro pittore della Centro Europa che è operoso in Italia, ma guarda che bella anche questa poesia ispirata da Sant'Antonio con tutta la sua simbologia, con la descrizione del paesaggio anche qui veramente incredibile, nevicata che si è appoggiata, lieve, su tutte quelle frasche che vanno a incoronare, impreziosire quella che è la figura della capanna del santo stesso, del piccolo cinghialino che andiamo lì dietro a vedere. Io mi auguro che ci sia anche qualche collezionista di natura morta, l'ascolto Vagna, vieni qua perché questa è un'altra opera di una qualità eccessa innanzitutto. Abbiamo immediatamente avuto la consacrazione dal grande esperto, veramente una persona molto qualificata, il professor Alberto Crispo dell'Università di Parma che ci ha confermato e ci faremo vedere anche perché c'è questa certezza attributiva, perché lui chiaramente oltre a dare il suo parere ci tiene sempre a darci anche degli esempi di quelli che sono i fatti salienti, stilistici, che portano alla delucidazione, alla scoperta del pittore stesso, quadro anche questo. Amici qui Dario sarebbe da chiamare quell'amico di Torino, appunto quello che citavo a inizio trasmissione, perché lui cercava e desiderava fortemente una natura morta di questa qualità, questo è un gioiello, è questo veramente un gioiello. C'è una cera lacca sul retro e poi magari il dottor Pico, Riccardo stai attento perché questa sera faremo la prima certificazione di opera marcata a cadu dal dottor Pico, che se sbaglia ripeterà l'operazione finché non riesce, quindi si prepara il dottor Pico, mette i guanti, prende l'isadesima, voglio e ci tengo, perché Riccardo questa è una cosa che ci consiglia da tempo, io condivido pienamente. Guarda caso le vere collezioni cosa hanno? Hanno la cera lacca, facciamola solo a vedere un istante, perché è niente che parli a valvere senza dare dei confronti reali, guarda cosa vuol dire, cosa che non è che capita tutti i giorni, perché poi spesso dietro i quadri magari venivano gestiti in maniera più superficiale, più libera e spesso si andava a rompere, a perdere, in questo caso si riesce ancora a leggere tutto quello che è il marchio del casato, fondamentale. D'ora in poi Arsanti qua, su quadri chiaramente di una certa entità, Dario, lei me lo deve garantire qui davanti a tutti, metterà il marchio a caldo, d'accordo? Almeno sulla scheda. No, no, facciamo sulla scheda. Facciamo una cosa, lo facciamo nella seconda parte, così ho il tempo di stampare l'autentica e vediamo di farlo. Ok, no, no, in seguito, non ora, non ora, in questo caso c'è anche il cartiglio dal collezionista, incredibile, quindi c'è cartiglio, chiaramente post, quindi a fine del settecento o al massimo ottocento, perché questa non è una cosa del novecento, c'era l'H che io ho già parzialmente decifrato, Bruno ci suggerisce un'attribuzione alla famiglia Olivi, per la famiglia piedemontese, c'è il leone rampante, come lui mi ha detto appunto nella parte destra, certamente, cosa certa e assoluta è la corona, la corona a nove punte, che è l'emblema appunto di un conte, quindi possiamo dire che proporiamo un Bartolomeo bimbi splendido con cera l'H di provenienza nobiliare questa sera, questo è un dato di fatto assoluto. Allora, Vania, c'è già interesse, vedo Dario che continua l'esponente del telefono, mi fa veramente piacere, avremo poi altre serie di nature morte, attenzione anche agli arredi, Vania fai vedere perché anche questi arredi al giorno d'oggi riusciamo a proporli a delle cifre veramente irrisorie. Dottor Pico, cosa dice? C'è interesse ancora la casa? Bene, ah, mi faceva anche l'articolo giustamente. Giustamente, Riccardo ormai fa parte del team, direi che è parte della squadra, mi ha giusto girato oggi stesso un articolo che ha letto i giorni scorsi sul Corriere della Sera, dove, Vania, magari facciamo vedere anche l'ambiente che abbiamo realizzato perché è molto bello, anche questo ci tende enormemente, puoi anche andare giù, guardami se da un istante solo. Il Corriere della Sera negli ultimi giorni ha illustrato come si è veramente in enorme ripresa il mercato dell'arte, quindi fate grande attenzione perché ci sono nuovi paesi emergenti nell'Africa, nell'Asia soprattutto, ma anche nella Sud America che cominciano a capire e ad investire nell'arte e soprattutto nell'arte italiana, perché l'arte italiana è certamente uno dei più grandi patrimoni mondiali, come nel nostro paese la bellezza, ma io stesso saluto anche l'amico Roberto da Badia, ho visto veramente una chiesa a Badia Polesine, qualcosa di incredibile, una chiesa romanica, sono rimasto senza fiato, sono rimasto veramente in osservazione di 10 secondi, una chiesa di una bellezza incredibile, conservata tra l'altro in un modo impeccabile probabilmente anche perché dei lavori di restauro ben effettuati, speriamo appunto che la Basilica di San Marco, signori, che è un patrimonio di tutti, venga ripristinata al più presto, è il più bel paese del mondo, c'è il pubblico forse più attento anche perché è cresciuto chiaramente, è educato in questo contesto ambientale, storico, presento un secondo solo, quelli che sono i soggetti e diamo la parola al dottor Pico che direi che è giusto che entri immediatamente a spiegare quel delizioso fiammingo. Allora, abbiamo contestualizzato appunto questa parte dello studio dedicata alla natura morta, quindi presenteremo due duranti precisi, entrambi perché uno con Cartiglio anche in questo caso sul retro che ne certifica l'esposizione alla Pinacoteca Palazzo Tosi Martinengo a Brescia di una mostra dedicata alla pittura del 600 e 700 Bresciano, ci sono poi delle righe che siamo chiaramente a cercare, grazie anche alla dottoressa Carlotta Nicolosi, nostra validissima collaboratrice che ha scoperto questo dettaglio, quindi è dato certamente ai duranti. Anonimo è questo dipinto, però bisogna sapere anche scommettere, perché poi quando sai scommettere sul cavallo giusto vinci sempre, puoi vincere veramente, fare un suo possibile, veramente poi mi auguro che Dario abbia preparato quello che ho detto per materiale relativo alla tavoletta fiamminga, questa la ritengo veramente in natura morta di grandissima qualità. Qui non sono ancora riusciti a circoscrivere l'ambito pittorico, ma io spero si veda bene Vagna, perché probabilmente non c'è molta luce, vai pure nel dettaglio, guarda che bella, che eleganza, che completezza anche nelle specie animali, ma anche nelle ceramiche, dottorostante, questo è un pittore elegantissimo, che non può rimanere anonimo. In questo contesto di animalie, quindi di soggetti dedicati appunto, natura e morte dedicati agli animali, abbiamo voluto inserire questo meraviglioso cassettone, rovelli, signori, veramente gli uccelli sono qui rappresentati anche in quelli che sono i decori, il cane, il leone rampante, quindi ricorre tutto nel mondo animale. Abbiamo inserito un oggetto moderno, una composizione con minerali, molto interessante anche quella, un bellissimo cerbiatto di Giovanni Gariboldi, uno dei più grandi artisti che ha operato appunto per la manufattura di Ricca Cerginori, quindi veramente un gioiellino anche questo, diamo molto anche le ceramiche quando sono di questa qualità, poi veramente chiaramente marchiato da parte sotto. Pandan Vanni, devi andare un attimo, staccarti un attimo dalla parete per far vedere gli amici perché voglio che ci vedano insieme. Pandan di natura e morte, queste, qui ci sono diverse dottrine, noi le abbiamo date alla scuola emiliana del 600 per non dare veramente dei condizionamenti, ma c'è chi dice che è un passo da Boselli, chi vede addirittura Tudieschini, il pittore che già abbiamo presentato, un pittore raffinatissimo, anche quello che ripresenteremo perché ci sarà una grandissima novità che Foglierico certamente ci svelerà nelle prossime puntate. Due Bajur Mazega che ritengo nella loro essenzialità, nella loro linea, nella loro purezza, due elementi, due compendi di arredo favolosi. Coppia di comodini napoletani, Luigi XV, giusti, questi non sono quegli arredi tardotti, riproposti, ma sono arredi, lastronati, impreziositi, da Boa de Rose di testa, sono due gioielline anche questi. Coppia di specchiera, molto bella anche questa per chi vuole regalare allo spazio un'atmosfera o una luce che con le candele posizionate ed accese veramente dà una spiritualità all'ambiente, io spesso l'ho fatto nelle fiere, sono stato anche un paio di volte ammonito a Caravagna perché poi non è che puoi accendere delle fiamme libere dove il contesto di moquette, regna sovrano, quindi è un'operazione che non mi azzardo più a fare, ma vi dico veramente che ha il loro senso perché l'applic nasce nella sua volontà di diffondere, di irradiare la luce che la candela specchia all'interno del vetro e riproietta nell'ambiente. Questo non era un azzardo così insensato ma era la riproposizione di un concetto che è nato con quella motivazione, con quella volontà. Marina che alle 7 e un quarto abbiamo chiuso questa sera, a 5 e le 7 siamo andati a un passo dalla venta della Marina, un giovane collezionista a 2.900 euro, amici c'è la firma, anche qui bisogna avere tempo di ricercare, chiaramente riuscire a decifrare, c'è anche una nostra amica studiosa che è un po' che non sento e magari proporrò a lei che fa di professione la traduttrice di firme per testi, per manoscritti, quindi certamente riuscirà a arrivare a risolvere il nostro emblema. Comuncina danese che amo e apprezzo moltissimo perché riprende la stratificazione marina al legno di Tec, guarda che bella questa sovrapposizione di azzurri che evoca anche quella che è la profondità del mare, mobile e essenziale ma molto intenso nel significato, le due poltrone Verona ormai sono un evergreen che io amo e apprezzo moltissimo sia per la loro comodità che anche in questo caso per l'eleganza della loro linea, per i tappeti dove ucciderà il dottor Picco, inutile che vi presenti quella che è la specularità della parte sinistra dello schema, l'idea era di regalarvi un ambiente studiato, proporzionato in quelle che sono appunto le nostre mansioni e arricchito anche di quello che è l'essenzialità del tappeto. Tommaso Rialfonso, Giampiero Romano in questa opera, scultura modernissima che poi gli daremo anche giusto una spiegazione di quella che è la sua filosofia, Bartolomeo Bimbi, preciso e assoluto, con perizia del dottor Crispo e poi farò vedere in seguito anche nei suoi riferimenti quelle che sono le sue delucidazioni, bellissimo anche questo quadro, ritengo veramente per il soggetto, amico Antonio Dalghero, se sei all'ascolto non farti sfuggire questo quadro perché è la prima volta che presentiamo un Sant'Antonio con tutti i suoi attributi in questo meraviglioso paesaggio che ormai è prossimo, ormai c'è un'area da neve anche a Milano, penso che siamo prossimi alle nevicate. Vanni andiamo a ritroso all'inizio stand, all'inizio percorso dove spero ci accolga il nostro dottor Picco, motivato e pronto a darci un saggio di quella che è la sua conoscenza, attenzione a questo dipinto, ripeto, attribuito a Londonio, dato in un'asta nazionale, certamente a Londonio, ma noi l'abbiamo appunto spostato verso Grechetto perché ci convince la materia un po' più antica di quello che forse è Londonio, Pratavoletta, dottor Picco, Scaldi Motori, Zopo da Lugano, pittore fantastico anche questo che vi consiglio di guardare con grande attenzione, magari Dario ora ci presenterà questa parte del nostro palcoscenico questa sera, derivazione da Van Dyck, anche questa è un'opera che bisogna guardare con grande intensità, con grande passione, coppia di Putti, Barotti e Vannia, gentilmente a ritroso, stasera ti faccio correre, preparati perché ti faccio muovere, voglio far capire gli ambienti. Allora abbiamo fatto appunto la prima parte dedicata alla pittura religiosa, abbiamo visto il zappo da Lugano, la cerchiera di Van Dyck, i due interni di chiesa, uno attribuito da un pittore spagnolo, l'altro anonimo, ma di veramente favolosa emozione nella descrizione e godicliggiante del dipinto nel suo interno, pittore francese, questo molto interessante per anche in questo caso la sua espressività, la sua dolcezza, la sua raffinatezza, l'atmosfera unica che riesce a trasmettere, tra l'altro corredato da cornice splendida in oro zecchino intagliata in legno, quindi non è una cornice di gesso, vale di per sé dai 2 ai 3 mila euro solo la cornice, l'opera è proposta a 3.800 euro e anche qui ci sono degli interessanti confronti che abbiamo trovato ricercandola online. Coppia di Putti Barocchi, dipinto su Ardesi e raffigurante la composizione dinamica, di fatto ricordiamo la Fugue in Egitto spesso proposta come la sosta, quindi durante la Fugue in Egitto e invece lo sviluppo vero e proprio del viaggio in questo caso è qui rappresentata la dinamicità di quello che è il percorso con queste due affascinanti putti alati che guidano il percorso, la mula che trasporta il bambino con San Giuseppe a piedi, anche questa è un'opera su Ardesi, attenzione amici che dipinti su Ardesi intatti di questa bellezza possono regalare grandi sorprese soprattutto se proposte a 3.800 euro. Matrimonio mistico di Santa Caterina al numero 2, altro quadro che per chi la signora Caterina, la pavia, non Titubi perché è bellissima anche nella dimensione e Rame al numero 1, Vanni, anche questo che abbiamo appena presentato, molto molto interessante. Che serata ragazzi, eh? Dario si prepari? Olio su Rame. Alleluia 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 e con questi canti gregoriani vi accolgo in questa puntata di Ars Antiqua presentandovi un capolavoro che è già stato confermato per cui al nostro micro non rimane altro che sentire la spiegazione e complimenti a Enrique per un'opera veramente fantastica come sapete diciamo ormai quando entro io è l'angolo dell'arte fiamminga specializzato su questo richiesto direttamente ai direttori fatemi trovare in ogni puntata un'opera o più di arte fiamminga e sono la persona più felice di questo mondo proprio perché l'arte fiamminga in come ha detto Francesco poco fa insieme a quella italiana sono il connubio perfetto insomma cosa sarebbe l'arte italiana senza quella fiamminga cosa sarebbero le fiandre senza l'incontro con l'emotività la sensibilità e la morbidezza dell'arte italiana ecco in questo quadro noi ci troviamo di fronte ad un'opera che è uno dei prototipi per le madonne i dipinti su tavola delle madonne con bambino del XVI secolo siamo nel primo quarto del 1500 e questa tavola di madonna è ascrivibile con sicurezza ad un'area geografica ovvero alla scuola di Bruges come mai? allora tra i capostipiti quelli che chiamiamo primitivi fiamminghi vi sono sicuramente in parte anche della seconda generazione la prima è composta da Ingeran Carton e questi grandi miniaturisti è composta da Van Eyck Van Eyck Roger van der Weyden e in Van Eyck noi ritroviamo il prototipo di questa madonna di questa iconografia chiedo all'architetto di mandare in onda il confronto della madonna di Van der Palle conservata al museo Gröning di Bruges ecco siamo direttamente in regia la madonna Van Eyck conservata appunto a Bruges eccola qua mandiamola in onda eccola qui la vedete direttamente ora sul vostro schermo ecco questa è l'iconografia da cui tutto è partito Van Eyck crea questo espediente insieme anche al contemporaneo Roger van der Weyden che era considerato secondo solo a Van Eyck ecco crea questa iconografia di una madonna in trono seduta con questi tessuti di broccato sull'eretro ecco possiamo ritornare direttamente in studio ecco questo è il modello poi tra poco vi farò vedere anche quelle di ecco se vuole mandarle direttamente guardi abbiamo anche la cerchia di Roger van der Weyden ho preso uno della cerchia proprio perché era molto simile alla nostra madonna eccoci dottor Picco prego perfetto ecco questa che tra l'altro è conservata anche all'Art Institute di Chicago quindi opere tutte musealizzate ecco qui vedete la somiglianza con il il broccato che vedete alle sue spalle l'acconciatura questi riccioli lumeggiati in oro e il vestito bordato anch'esso di oro quindi una finezza che solo l'arte fiamminga del tempo riusciva ecco perfetto grazie architetto per ecco vedete qui i due schermi ecco sono speculari le due figure ma notate la somiglianza nei tratti principali quelli salienti dei vestiti delle lumeggiature in oro dei capelli del bordo del vestito bordato in oro i visi ecco e poi ci sono anche altre altre madonne che abbiamo anche in regia chiedo di mandare poi la madonna con bambino di Diretbus il vecchio e quella di Hans Mabling e Gerard David ecco io ho fatto una carrellata di immagini adesso se volete mandarle in onda architetto abbiamo in ordine abbiamo quella di Dirich Boots che era allievo di Roger van der Weyden quella di Hans Mabling allora adesso vediamo direttamente Dirich Boots il ecco mandiamo in onda ecco questa è la madonna di Dirich Boots di nuovo la somiglianza nei tratti quasi un po' spigolosi del velo e comunque dei drappeggi abbiamo poi quella di Hans Mabling poi abbiamo Gerard David che era allievo di Hans Mabling quindi quello che ho voluto farvi vedere è stata una sequenza di madonne con bambino ecco possiamo questa Gerard David come vedete anche qui la somiglianza nell'ommeggiatura dei capelli nella naturalezza delle pose nella morbidezza dei tratti e del copricapo possiamo ritornare in studio siamo di fronte a una vi ho fatto vedere la genealogia di questa madonna quindi siamo direttamente da Van Eyck giunti a questa iconografia tramite questi grandi maestri che sono pensati i capostipiti dell'arte fiamminga nel suo pieno splendore la scuola di Bruges ha un periodo che dura circa 50 60 anni 70 anni non è molto estesa perché poi dopo si fonde con le altre si unifica eppure è una scuola ben delineata per queste caratteristiche vi ricordo Jan Van Eyck era di Bruges Amnus Memling era di Bruges Gerard David ha lavorato a Bruges quindi hanno delineato questo stile questa iconografia ed ecco la presentazione di una Madonna direttamente databile al primo quarto al primo ventennio del XVI secolo ve la stacco anche per farvi vedere scusate le spalle vi ricordo che è una tavola sulla quale si leggono anche io adesso non so Vane per favore cerca di stringere ti avvicini tu perfetto nella parte alta adesso non so ecco vedete ci sono delle scritte in fiammingo ormai sono difficili da leggere però un'opera l'opera parla la tavola è poi solamente spessa 3 mm e mezzo 4 mm una finezza incredibile l'ho staccato anche per farvi vedere un'altra cosa allora Vania cerco di farlo vedere in trasversale per far vedere questo il broccato dietro sembra un tessuto nero ecco vedete e direttamente sembra direttamente il tessuto c'è una finezza tutte queste damascature a rilievo ottenute poi tramite un colore più spesso sono sono a rilievo e sono dipinte con un nero diverso quindi sono stati utilizzati due neri per conferire una finezza incredibile a quello che è la tramatura che di per sé vedendolo frontalmente quasi non si vede non si distingue ma poi da vicino poi è appunto questo lieve contrasto di colore vedendolo anche di fianco adesso io lo raddrizzo di nuovo vedete questo sì bene salutiamo l'amico Antonio Dalguero che si complimenta con il nostro amico Riccardo per l'acquisto ecco e quindi vedete la finezza ecco la parte perché amo l'arte fiamminga perché innanzitutto presenta sempre quel microcosmo quel microcosmo che solo nelle fiandre viene espletato ho detto appunto la scorsa volta presentando la Madonna di Desmarlie a proposito di Van Eyck che nella Madonna col cancelliere Roland sono state distinte 120 circa specie di fiori diverse tutti riconoscibili ma i fiori non sono poi in primo piano sono nel giardino in terzo piano retrostante la pala è molto grande ma quindi questo ortus conclusus questo giardino chiuso questi giardini delle meraviglie che raccoglievano tutte le specie di fiori da tutto il mondo che venivano poi fatte ricrescere nei giardini dei nobili ecco sono riconoscibili parlando appunto anche del Desmarlie la scorsa volta dove erano riconoscibili tutte le tipologie floreali che lo componevano questa è l'arte fiamminga e Ars Antiqua ve la propone vi propone i migliori artisti artisti musealizzati che questa è una cosa importante non mi stancherò mai di dirvelo di raccomandarlo lo facevo con l'arte contemporanea l'arte moderna e lo faccio con l'arte antica quando scegliete un'opera guardate in quali collezioni esposta in quali musei esposta se è esposta in musei se è esposta nelle mostre in quali siti pubblicati vi sono grandissimi d'autorevoli siti in Italia la fondazione Zeri la fototeca Zeri scusate che raccoglie tutte le opere principali dell'arte italiana e anche europea e poi per quanto riguarda l'arte fiamminga dei Paesi Bassi l'RKD questo sito che come la fototeca Zeri raccoglie tutte le immagini Ars Antiqua controlla studia per voi queste opere d'altronde il nostro compito di storici dell'arte è quello di proporvi di studiare le opere farle capire spiegarle nonostante appunto abbiamo a che fare con collezionisti preparatissimi questo è anche il bello spesso sono loro anche che chiamano noi per darci degli avvisi o non siamo onniscienti per cui e del bello della diretta e dell'arte in generale e dello studio per cui guardate questo quando scegliete un'opera d'arte Ars Antiqua vi propone queste scelte vi propone cerca di spiegare di rendere chiari questi studi lo facciamo per voi ve lo proponiamo ed è la più grande soddisfazione appunto quella di riuscire a comunicare questa questa bellezza bene quindi ancora complimenti a Riccardo c'era ancora molto da dire ma insomma la conferma è arrivata prima del dovuto in questo caso come dico sempre l'opera ha parlato al posto del presentatore vi dirò poi anche qualcosa in seguito a proposito di una mostra di Van Eyck che verrà organizzata al prossimo anno a Bruges se non sbaglio abbiamo anche una locandina dalla regia se la trova Architetto se non la mando dopo quando parlerò dell'arte fiamminga sarà la più grande retrospettiva di Van Eyck finora fatta con opere che arrivano da tutto il mondo e verranno concentrate poi nella nella città dopo manderemo poi anche la locandina eccola qua perfetto Van Eyck An Optical Revolution dal primo febbraio 2020 eventi al Minsk quindi uno dei più grandi musei fiamminghi grazie complimenti ancora a Riccardo e Vagna passiamo un attimo alla tavola ecco vi passo davanti ecco io ve la stacco nuovamente scusate le spalle ma non posso fare diversamente in quanto c'è l'angelo ecco lo posizioniamo che è un po' più perfetto è stato provvidenziale poi cambiamo anche i numeri allora vabbè l'ho staccato per farvelo vedere innanzitutto di nuovo dipinto su tavola le tavole sono sempre leggermente arcuate questo anche per perché i fiamminghi che erano conoscevano molto bene i materiali cercavano sempre di prevenire con l'esperienza quelli che erano i potenziali e i futuri danneggiamenti quindi una tavola piatta spesso si imbarca se la tavola tu la fai leggermente curvata questa ha un tiraggio durante poi l'invecchiamento uguale da tutti i lati e rimarrà sempre nello stato non screpolerà il colore ecco adesso vediamo questo ecce omo siamo di nuovo in epoca fiamminga ecco Vagna grazie stringi pure sull'opera è emozionante l'arte fiamminga è qualcosa veramente che ti entra dentro io amo maggiormente allora la rimetto al suo posto e cambierò anche il cartellino amo principalmente l'arte i soggetti più profani solamente nell'arte fiamminga ecco riescono ad avere questa capacità di comunicare sensazioni sentimenti con qualsiasi soggetto essi dipingano siamo in una cerchia di Van Dyck il lavoro principale scusate vi passo davanti così riesco a leggervi anche le misure la cattura la cattura di Cristo olio su tavola 28 per 22 ho parlato di cerchia di Anton Van Dyck come mai la tavola la tavola principale dalla quale è stata tratta questa figurazione di un artista che ha operato nella cerchia del grande maestro si trova alla Princeton University Art Museum ecco quindi abbiamo questo grande modello dal quale poi è stata tratta la seguente figurazione ecco forse abbiamo dei confronti sotto la nomina di Van Dyck in regia lecce uomo ecco il Giuda con un bacio tradisce il figlio dell'uomo il Cristo sofferente che viene portato in in catene dagli armati una volta legato ed è presentato nella classica figurazione con l'uomo che porge il ramoscello quasi per scherno come se fosse uno scettro e il soldato alle sue spalle con la lancia che quasi sicuramente è il soldato che una volta crocifisso trafiggerà il suo costato lanciando la lancia ecco abbiamo un riferimento ecco questo architetto è il dalla regia il il Cristo in catene dal 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 Princeton University Art Museum esatto questo invece è l'altro dipinto che è conservato al The Barber Fine Art Center in Inghilterra sempre di Van Dyck ecco quindi sono state fatte numerose versioni di questa tavoletta che poi è stata ripresa anche dagli allievi e dagli artisti operanti nella cerchia di Van Dyck Van Dyck che riesce poi andando anche a muovendosi viaggiando andando a Londra e a Genova assorbe quelle che sono le lezioni di Rubens e di Tiziano infatti era il primo allievo di Rubens quindi notiamo un certo percorso nella sua arte che porta lo porta ad essere unico ecco perché influenza poi tutti quelli che sono gli artisti della sua bottega o che lo hanno seguito o che hanno visto le sue opere qui siamo nuovamente epoca coeva a quella del Van Dyck quindi un artista che ha visto di prima mano le opere del maestro questa tipologia tra l'altro era già diffusa così piccola era diffusa già nel XVI secolo ad opera e anche prima ad opera di Roger Van der Weyden di cui vi ho parlato prima a proposito della Madonna ecco quando io cito questi maestri li cito perché sono stati grandi innovatori di una tradizione pittorica quindi hanno preso dei soggetti hanno trovato degli espedienti per renderli unici e hanno influenzato poi a loro volta tutti gli artisti a venire quindi sono i classici cosiddetti capi scuola ebbene Roger Van der Weyden cosa aveva fatto aveva creato questa tipologia di e c'è uomo madonna quasi tascabili in modo che anche la persona potesse in un certo quel modo parteciparvi senza dover appendere dover tenere nella casa queste enormi pale poi la committenza era enorme erano richiestissime ma non tutti potevano permettersi pale d'altare e quindi sono nati anche questi formati leggermente più piccoli ma non di minore qualità come potete vedere allora guardate la qualità della muscolatura bagna stringi pure sull'opera la qualità della muscolatura le corde la capacità dei fiamminghi di lumeggiare sempre le opere lumeggiare le opere ecco guardate qua le corde sono semplici tocchi in punta di pennello guardate la finezza delle dita le nocche le ombreggiatura sulla mano guardate la manica il palmo della mano la perfezione si amminga non ha eguali ecco è condensata una rappresentazione condensata dove si respira tutta l'emotività quasi la sofferenza del Cristo e un formato condensato proprio per includere i principali attori siamo di fronte a tre personaggi l'arte italiana poi come vedremo anche con altre opere amplifica queste 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 raffigurazioni includendo moltissimi personaggi ecco qua siamo di fronte a un altro a un altro stile un altro modo di vedere queste queste figurazioni ecco pensano che non veda dalla regia mangiano architetto e beh d'altronde cosa dire è una è un'opera veramente incredibile tra l'altro volevo dire la cornice è posteriori in stile ma interamente a foglia oro zecchino guardate anche il retro veramente il sapore di una cornice antica esatto l'architetto lo saremo nei primi del novecento sì fatta nel novecento ma di grande gusto davvero Vagna ecco dimentico sempre ti avvicini tu io resto fermo e vado indietro oro zecchino una cornice comunque che è dei primi del novecento ma ha tutta la sua bellezza in un certo modo anche la sua antichità ha comunque più di cento anni ecco guardate poi anche il retro con questi angolari tra l'altro vedete anche qui alcuni leggeri segni di tarlo ovviamente ormai inattivi che non hanno minimamente intaccato la superficie anche perché spesso i fiamminghi stendevano un forte strato di gesso è una teletta davanti che spesso poi non permetteva ai tarli anche di venire in superficie guardate poi i piani abbiamo un primo piano che è quello dell'uomo che porge il riflette allora la riappendo così sta in posizione leggermente inclinata abbiamo un primo piano che è quello dell'uomo che sta porgendo questo ramo abbiamo un secondo piano che è quello del Cristo e l'ultimo piano quasi in penombra con questo soldato dietro quello che fa fare uno sfondo monocomo invece comunque un interno in quanto si vede un pezzo di muratura vedete bravo Vania illuminato da quella che è l'aureola del Cristo 2400 euro per un'opera che siamo nel diciassettesimo inizio del 1600 a 2400 euro dottor Picco complimenti ha fatto veramente sciogliere i telefoni con le sue presentazioni amici non titubate davvero perché sono occasioni uniche l'amica Marisa da Treviso voleva delle uccidazioni in merito anche allo zappo da Lugano perché c'è va beh stiamo presentando tutto nella stessa zona bene allora spostiamoci un secondo Vania leggermente di fianco poi non mi stancherò mai di dire 2400 euro Arsantiqua vi offre sempre la possibilità e l'opportunità di rateizzare i vostri pagamenti proprio per permettere a tutti di poter accedere alla bellezza dell'arte quindi potete dilazionarli fino a 5000 Arsantiqua pagherà il tasso al vostro posto quindi dividete voi il 2400 per per un anno per 12 mesi quanto viene architetto all'incirca irrisorio esatto quindi è una un'opportunità da non perdere un lavoro capolavoro fiammingo a 2400 euro al numero 8 adesso andiamo per la nostra amica da casa Vania stai già filmando opera di Giovanni Battista di Scepoli detto lo zoppo da Lugano periziata dal Professor Negro spesso ci avvaliamo anche dei maestri dei professori scusate dei professori dei principali esperti relativi poi a un artista piuttosto che ad un altro per le nostre opere quindi quest'opera come anche l'Arienti che aveva la perizia del Professor Mazzocca è periziata e studiata dal Professor Negro che Giovanni Battista di Scepoli nato a Castagnola presso Lugano probabilmente ha avuto un suo allunnato sotto Camillo Procaccini e quasi più certamente incontra Carlo Francesco Nuvolone ma non solo ritorniamo anche qui ai nostri fiamminghi probabilmente nel suo soggiorno a Genova conosce e vede le opere vede le opere di Van Dyck ecco che in quest'opera vengono condensate tutte quelle che sono le maniere italiane dal Nuvolone dal Procaccini al chiaroscuro alla suntuosità degli abiti dei fiamminghi di Van Dyck anche questa è l'adorazione dei magi di Giovanni Battista di Scepoli un'interpretazione personale di quella che è la pittura Lombarda e allora stringi Vagna sulla bellezza dei volti in questo senso abbiamo un primo piano che è quello centrale delle quattro dei cinque personaggi abbiamo i magi abbiamo San Giuseppe sull'Eretro e la Madonna e poi il fulcro di tutta l'azione il Cristo Bambino il sesto personaggio ecco e tutto intorno ritorna quella predilezione italiana per questi grandi sfondati ecco abbiamo tutta una folla fluretro che si perde questo cielo che si apre quasi come un sipario con gli angeli questi putti che aprono verso una luce che non parte dal bambino ma arriva direttamente dal cielo un'opera dal carattere molto scenografico e questa è la bellezza anche di Giovanni Battista di Scepoli la scenografia ecco ci troviamo sembra il palco in teatro dove in primo piano abbiamo gli attori quelli che recitano sulla scena e poi si apre il fondale la quinta che è ancora più suggestiva a volte di quello che si vede della semplicità che si vede nel primo piano questa è un'opera che non dovete perdere Vagna stringe ancora sui particolari e di nuovo Ars Antiqua vi offre uno zoppo da Lugano Giovanni Battista di Scepoli a 9000 euro solitamente facciamo anche vedere quelli che sono i riferimenti o delle aste le estime le valutazioni le battute d'asta come prima per il Londogno poi la faremo vedere valutato a stima minima 6.000 8.000 e Ars Antiqua ve lo propone ad un prezzo ancora più vantaggioso lo stesso tra l'altro non un altro lo stesso quadro e andate a vedere quanto sono valutate le opere di Giovanni Battista di Scepoli la capacità di Ars Antiqua è quella di essere attiva su tutto il territorio non solo italiano ma europeo e anche oltre di acquistare ogni anno quanto architetto siamo forse più di intorno alle 1000 opere all'anno quasi ecco questo ci permette di offrire non solo la qualità perché le opere vengono scelte grazie poi a tutti i nostri mezzi dal Corriere dai giornali alle riviste specializzate alla televisione a tutte le principali fiere italiane a cui noi facciamo parte ci dividiamo siamo in 7-8 persone qui dentro quindi riusciamo veramente a coprire capillarmente tutto il territorio riusciamo a andare nelle case a scegliere a fare questi blocchi ad acquistare e a riproporveli ad un prezzo veramente vantaggioso ecco la politica di Arsantico è forse un po' diversa dalle altre dalle altre gallerie quindi questo architetto va detto in quanto è giusto che si ponga la domanda come mai può essere più vantaggioso o meno di un altro le motivazioni risiedono semplicemente nella capacità di essere capillare su tutto il territorio di essere sempre in movimento essere sempre in giro 7 su 7 in galleria per offrirvi la qualità e in particolar modo anche la convenienza in questi acquisti tra l'altro come vi ho detto sono tutte le opere sono tutte periziate non solo da noi che poi appunto siamo partiti del tribunale hanno anche valore legale ma anche dai principali professori ove vi è il caso di riferimento professori universitari professori che hanno pubblicato libri professori che da una vita studiano quel determinato filone di autori o scuole ecco Ars Antiqua fa questo lavoro innanzitutto per piacere ma per potervi offrire la massima qualità convenienza e sicurezza nei vostri acquisti e allora perché quest'opera è ancora presa al muro a 2400 euro un fiammingo strapitoso un altro che deve avere la velocità del nostro amico che non ha nemmeno atteso la spiegazione lo ha confermato è una tavola dalla qualità eccezionale guardate poi anche la questo questo blu del manto che quasi contrasta con il resto i colori vanno guardati spesso poi tutti i quadri sono fatti sulla stessa tonalità ecco i fiamminghi o stessa cosa ho detto l'altra volta del giovedì scorso presentando il Crivellino che aveva questi due punti tutto il quadro era in tonalità delle terre e delle ombre poi aveva due punti di blu vivace quasi che stonavano contrastanti ma erano proprio quello che riusciva ad attirare l'occhio e a rendere vivo il quadro così anche in questo caso la manica questo lato del quadro riesce a smorzare quelli che sono i toni delle ombre delle terre amalgamarsi armoniosamente e creare appunto un punto di attenzione un punto quasi che fa sussultare per la sua incompatibilità apparente con il resto delle tonalità e questa è la capacità spesso dei maestri fiamminghi un ecceomo del genere del sedicesimo fine sedicesimo inizio diciassettesimo secolo non lo trovate a 2400 euro ricordo è una tavola quindi a 2400 euro signori io non ve lo presento più passerò oltre questo quadro d'altronde i nostri collezionisti sono sempre attenti e mi auguro che qualcuno di voi sappia cogliere la particolarità di quest'opera la sua bellezza poi anche l'arte deve piacere insomma inutile che io vi parli di un'importanza di un'opera piuttosto che di un'altra deve piacere quindi vi diamo tutte le garanzie posso spiegarvi l'opera posso dirvi sommi capi in generale darvi un inquadramento che ne spieghi una testa di importanza ma poi l'opera deve piacere dovete siete voi poi che ve la trovate con piacere davanti tutto il giorno e tutti i giorni ritorniamo Vagna sullo zoppo da Lugano Giovanni Battista di Scepoli guardate la preziosità delle vesti ovviamente quello che colpisce è anche il manto completo quasi monumentale statuario di questo il turbante è una particolarità una peculiarità dei fiamminghi sono proprio questi turbanti così complessi ecco intanto l'architetto è al telefono i telefoni il dottor Bruno che ha giunto le presentazioni che ci vanno veramente bene bene allora attendiamo poi dopo per l'intervento che saluto anche Bruno e Tiziana saluto anche Claudio da Torino e Pier Giorgio che avrà già visto i tappeti il quale chiederò poi aiuto più tardi ecco preziosità delle vesti morbidezza della pittura del tratto uno sfumato che viene anche preso dall'arte fiamminga i cui contorni talvolta non erano così definiti proprio per permettere alla persona di definire quella che era l'immagine 9.000 euro per quest'opera siamo nella prima parte primo trentennio del XVII secolo infatti Giovanni Discepoli è nato intorno al 1590 a Lugano e muore poi a Milano nel 1654 le dimensioni che non vi ho ancora detto 82 per 121 con cornice 103 per 132 quindi un'opera comunque che ha la sua importanza anche dal punto di vista di dimensioni a sostegno dell'attribuzione poi non solo la nostra perizia quella del professor negro ma anche un'altra versione dell'adorazione dei magi poi magari più tardi ve la faremo vedere che è conservata al castello sforzesco di Milano bene io direi che ho concluso questa prima parte di presentazione attendo quindi vado a prendere l'architetto di fronte al nostro carcurt alla nostra battaglia al nostro accampamento grazie caro Dario poi sarà convocato ancora perché vogliamo che vedo le lucidazioni su Sant'Antonio assolutamente a dopo grazie amici siete molto partecipi questa sera ci fa enormemente piacere anche noi è un cantiere arsantico da sempre cresciuta con voi grazie per il vostro affetto la vostra partecipazione Bruno fra poco entraremo nel quadro che era uno dei diciamo gli eventi salienti di questa sera quindi tieniti pronto vorrei però Vanni andare un istante sul bimbi perché trovare un quadro così bello preciso e ora vi faremo vedere anche con la documentazione del caso potervelo proporre stasera deve essere veramente un onore e io mi auguro veramente ci siano dei collezionisti attenti di Natura Morta perché questo è un quadretto vero un quadretto preciso è un quadretto assolutamente certificato in tutte le sue riferimenti e io inizierei subito citando lo stesso Alberto professore Alberto Crispo l'atletta è riconducibile alla mano di Bartolomeo Bimbi Settiniano 1648 Firenze 1729 come rivela il vivace naturalismo nella resa dei fiori tratteggiati con pennellate materiche che ne evocano l'umida fragranza i primi segni di avvizzimento e soprattutto l'incanto dei colori ecco io già qui amici vorrei che voi capiste l'importanza di tale pittore la sintesi assoluta che con pochi tratti con una grande capacità compositiva il pittore riesce a equilibrare in questa piccola dimensione un quadro di tale bellezza guardate veramente si possono leggere le gocce di rugiada sui petali incredibile quadro affascinante veramente e allora partiamo con i riferimenti Dario così capiamo immediatamente l'importanza dell'artista la sua importante committenza perché ricordiamo essere uno dei principali protagonisti del Gran Dottorato di Firenze allora dovrebbe esserci in ordine il primo riferimento appunto che è pressoché identico nella composizione del tulipano vami e seguimi filo per filo per favore nel tulipano giallo e rosso in alto a destra eccolo lì guardate che bello che corposa materia incredibile veramente la lucentezza la bellezza l'eleganza anche dalla pennellata la sintesi pittorica di questo pittore dalla regia gentilmente Dario facciamo vedere il vaso di fiori eccolo lì in alto a destra anche in questo caso in questo caso stiamo mandando la sovrimpressione tolgo un attimo la sovrimpressione così almeno si riesce a vedere chiaramente la ok si riesce a equilibrare la cosa allora il primo esempio è quello appunto passato e proposto nella mostra addirittura alla Biennale di Firenze nel 2001 dalla Galleria d'Orlana ricordiamo una delle principali strutture che ha edito anche uno dei più interessanti libri di Natura Morta quindi dei professionisti veramente in questo campo affermati e assoluti eccolo là in alto a destra grazie Dario poi sottolineiamo la pressoché identica composizione con il racemo di Giacinto che nel nostro caso appunto è in versione blu torniamo in diretta Vanna gentilmente vai sul racemo di Giacinto blu che è quello a sinistra come puoi immaginare lassù guarda che dolcezza che eleganza è praticamente identico a quello proposto appunto in un dipinto passato in Asta da Cristis nel 1995 e tra le altre cose pubblicato nella monografia del 1998 Bartolomeo Bimbi un pittore di piante animali alla Corte dei Medici eccolo qua anche questo è un riferimento veramente incredibile tra l'altro questo ci testimonia come usasse addirittura dei prototipi che chiaramente non è che declassifichino la qualità dell'opera ma lui aveva questo suo insieme di prototipi che riutilizzava quindi riproponeva perché appunto gli davano questa possibilità di dare un equilibrio spaziale studiato e ricercato quindi rivediamo praticamente gli stessi fiori riproposti in composizioni diverse questo diciamo è un po' la sintesi pittore questo tra l'altro che alternava composizioni di grandi dimensioni a piccole telette come in questo caso focalizzate su poche specie che manifestano di fatto un elevato interesse scientifico per la classificazione botanica io questo lo sottolineo veramente in continuazione perché perché sono documentazioni storiche favolose di appunto composizioni floreali di ricerche botaniche vere e proprie e la bellezza chiaramente è la capacità della disinvoltura pittorica del pittore che rappresenta in queste equilibrate composizioni abbiamo ancora un paio di esempi se non ero dalla regia Dario che sono il vaso di Ceranica con anemoni e giacinti allora aspetti glieli dico io così almeno questo è Palazzo Pitti mi ricordo l'ultimo due opere solo di Palazzo Pitti rivediamole esatto questo è evidente e interessantissimo per capire come l'anemone viene spesso addirittura introdotto da dietro giusto per andare a evidenziare i sepali del calice quindi per farci capire anche la composizione strutturale appunto il discorso che facevamo all'inizio di quella che è lo suo studio botanico di rappresentazione e l'altro riferimento ancora proprio lo sottolineava il professor Crispo per questa proposizione dell'anemone rovescio anche questo dipinto conservato nella collezione Pitti quindi qua abbiamo questa sera signori un dipinto museale davvero questo poi non è che l'arte si venda a centimetri o a metri ma a 8 mila euro avete la possibilità di possedere un bimbi favoloso Dario abbiamo qualche riferimento anche di quotazione al pittore allora abbiamo questo da una casa d'aste austriaca vediamo i valori amici e guardiamo le dimensioni visto che stavamo facendo un ragionamento di proporzione esatto 30 45 mila euro si esatto e poi appunto anche le dimensioni che sono di 40 per 28 se non leggo male si abbiamo altri riferimenti? abbiamo ancora no volevo farvi vedere poi il sull'oretto il sigillo ok questo è il sigillo poi vedremo e Dario ci farà capire anche l'importanza del sigillo che certamente non è in questo caso da lasciare nei dettagli perché veramente era casato il conte che l'ha posseduto e ha voluto veramente personalizzare quella che era la sua ricercata voglia di amare l'arte di amare l'arte di collezionarla con grande passione e devozione quindi il sigillo è veramente un marchio di possesso ma per far capire anche alle generazioni future probabilmente quella che era stata la prestigiosa committenza e la ricercatezza di pittori esteri in questo caso addirittura c'è un cartiglio sul retro che va a dare anche un'attribuzione a quello che poi nei secoli è stato certamente un altro custode di questa bellezza di questa meraviglia signori questo è un quadro di serie A un quadro da visionare nei musei chiaramente la cornice per dovere di cronaca è in stile io non la ritengo adatta a celebrare la bellezza di tale dipinto nell'eventualità non faremo altro che sostituirla con una cornice antica adattata o come spesso facciamo con grande equilibrio devozione ricercatezza con una cornice in stile che lo impreziosisca ulteriormente concluderei la presentazione dell'opera ricordando appunto come il pittore usi sì dei modelli preconfezionati da rimettere in gioco che tuttavia non impediscono la percezione di presa diretta e turdice freschezza delle specie botaniche per questo è da sottolineare veramente perché non sono seriali ripetizioni ma sono interpretazioni equilibrate a livello spaziale con grande ricercatezza nel dettaglio perché veramente se guardi un fiore scegli uno vanni a fai vedere gli amici per finire a tuo piacimento guarda la bellezza di quella rosa bravo anche io se l'ho andato lì è straordinario guarda che corposità che bellezza e che come la materia è sapientemente plasmata pittore che si è formato chiaramente nella bottega di Lorenzo Lippi e Onorio Mariani entrò anche poi in contatto con l'esperienza romana di Mario dei Fiori la committenza più importante come abbiamo sottolineato è quella del Granduca Cosimo III dei Medici quindi qui si porta a casa veramente un quadro preciso un quadro da grande collezionista un quadro che si può notare e ricercare acquisendolo e possedendolo in maniera veramente con grande passione con grande devozione o visionandolo nei più importanti musei del mondo è un gioiellino amici non titubate perché a 8000 euro questo è un bimbi da proporre a Modena se nessuno l'avrà ancora riservato io sono convinto che non rimarrà a lungo probabilmente in arsa antica perché questa è una chicca per chi conosce il genere pittorico non se lo farà certamente sfuggire ma un quadro che a Modena poi proporremo a ben altra cifra chiaramente avendogli magari trovato una cornice coeva che stilisticamente non rispetti la bellezza e le dia la giusta valenza la giusta dimensione allora ricordiamo la ceralacca che poi il dottor Pico ci farà vedere la prima ceralacca in arsa antiqua abbiamo fatto fare il timbro abbiamo ricercato la cera questa sera ci darà veramente una dimostrazione pratica di cos'era ceralacca il cartiglio che dicevo che è stato messo in un'altra posizione qui è un collezionista probabilmente estero perché è un professore professore io poi lì non sono riuscito a decifrare ma non penso che sia tanto importante ma certamente un uomo di cultura che ha visitato il nostro paese e ha voluto impreziosire il suo viaggio il suo ricordo portandoci a casa uno dei maestri della pittura toscana ma al tempo stesso uno dei protagonisti veramente della pittura di natura morta italiana Gio Ielino non fatevelo sfuggire perché questo uno è presentato e poi quando ne ritroveremo un altro non sarà cosa così semplice Dario direi che siamo arrivati al momento della nostra serata c'è interesse per il quadro ancora? bene chi è che desidera? il nostro amico da Venezia da Venezia bene il signor? signor Giuseppe da Venezia quadro meraviglioso eh beh ha ragione Giuseppe deve essere un collezionista di natura morta certamente perché è un'occasione che non capita tutte le sere potrevi proporre un bimbi di questa bellezza veramente di questa poi questi sono per me fra i quadri più belli in assoluto perché la grande natura morta ti dà la grande parete è in dubbia l'importanza della grande natura morta o quella meravigliosa Ghirlanda in quel contesto veramente non si poteva proporre un quadro del genere ma la piccola teletta per il collezionista è un tassello essenziale perché? perché gli permette di spaziare a livello regionale gli permette di creare un percorso temporale anche di quei fatti salienti che hanno portato questo è un quadro che se propongo all'amico di Roma che tra l'altro è un museo ha fatto una fondazione non penso ci impieghi più di 5 minuti a riservarlo ma non ci piace è giusto che chi sia all'ascolto abbia la priorità della diretta della possibilità di vederlo in prima persona per me per me è qualcosa di unico poi certamente anche Federico lo riproporrà nelle sue trasmissioni perché un gioiellino così non è facile da trovare e da riproporvi quindi ci sarà chiaramente il desiderio la volontà di farvelo gustare a voi le vostre scelte sappiate che poi domani la gente viene come spesso altro riferimento Dario ah ok perfetto presentiamo anche un attimino le opere ogni tanto è una sua opera questa esatto con tutte le informazioni relative quindi abbiamo le dimensioni 30x35 certamente olio su tela Bartolomeo Bimbi natura morta di fiori entro bacile cesellato e dorato direi che è essenziale anche quello perché richiama proprio quella che è tutta la tradizione del 600 floreale quindi con questo vaso quasi in equilibrio perfetto e in una composizione studiata vedi a livello spaziale Ivania pressoché è perfetta perché ha tutto il suo spazio di respiro la sua atmosfera circostante questo vase centrale che enfatizza poi quello che è l'esplosione dei fiori nella parte superiore quadro meraviglioso davvero non fatevelo sfuggire amici perché fate veramente un grande grande errore non titubate fate le formule di pagamento dire azionate portate a casa l'arte vera che vedete nei musei o potete possedere in prima persona e contemplare per sempre per generazioni facendo oltre che un grande vestimento soddisfando veramente una grande esigenza estetica e passionale di possedere la pittura vera bene allora io a questo punto direi che possiamo andare a dare un'occhiata a quella che è la nostra battaglia perché? perché noi avremmo voluto fare e in queste puntate del giovedì sera il secondo giovedì di fatto di quello che è il nostro Polin Sesto perché ricordo gli amici ogni giovedì sera dalle 21 alle 24 saremo in diretta con voi per presentare nel primo giovedì del mese una selezione di all masters quindi pittura ricercatissima di grande importanza dal punto di vista storico e di grande investimento chiaramente in qualcosa di assoluto di pregiato di ricercato la nostra puntata il secondo giovedì del mese contestualizzata più nella quella che può essere realmente la vostra possibilità di inserire opere vere contestualizzate all'ambiente alla vostra dimensione alla vostra casa la zona rossa che questa sera è blu ma tornerà rossa certamente nelle prossime edizioni per il secondo giovedì è stata chiamata Dario prego le pillole del professor Bruno mi conceda questo scherzoso dualismo perché lei è veramente medico quindi immagino prescriva anche delle pillole realmente sui pazienti ma come avevo detto iniziata la missione veramente io penso lei sia un patrimonio favoloso da condividere con tutti gli amici con chi ama l'arte in tutta la sua forma e nella sua complessità perché sì è giusto fare uno studio critico dell'opera ma come posso darti del tu penso Bruno e do da lei per riforma di rispetto ma siamo dei grandi amici veramente condividiamo le grandi passioni e spesso vieni a trovarci anche nelle fiere cosa che mi dà enormemente piacere quando non riesci vengo io a prenderti quindi direi che veramente siamo sempre stati affiatati molto perché desideriamo appunto anche fare queste analisi spesso con te io non vedo l'ora che tu arrivi nelle fiere perché aggiungi dei dettagli dei preziosimi che poche persone penso siano in grado di percepire va niente sul quadro innanzitutto presentiamo il quadro e poi daremo un altro squillo di trompa Dario e faremo capire quella che è l'opera e veramente queste delucidazioni che solo Bruno è in grado di darci allora innanzitutto l'opera si contraddistingue per la compresenza di quella che ha l'influenza fiamminga alla cultura alla bellezza della pittura italiana alle peculiarità della scuola italiana ricordiamo Kerfurt pittore di formazione fiamminga di forte ispirazione a uno dei grandi maestri vorrei dire Courtois appunto nella sua composizione nel suo dinamismo spaziale riesce e manifesta quasi sempre nelle sue opere una grande raffinatezza una qualità formale caratterizzata da una pennellata mossa veloce ma al tempo stesso preciso Vagne va anche in questo caso dove vuoi nei dettagli perché questo è evidente dalle chiome di cavalli dalle criniere dalla bellezza e anche dalla minuziosità con cui vengono rappresentate le armature l'intensità dei visi pittore che tra l'altro poi maturò la sua formazione in Italia e non fu indifferente a quelli che sono gli stilemi della cultura veneziana in particolar modo è evidente anche un richiamo a quella che è la pittura di Giuseppe Zais in alcuni contesti proprio quel sapore quel tocco veneto che ha fatto e ha caratterizzato quasi tutte le opere dello Zais quindi è un pittore veramente da guardare con intensità in tutti quelli che sono i dettagli in tutta quella che ha la composizione io amici direi che una scena così di accampamento anche questa sera proposta agli 8500 euro stiamo parlando di un quadro la cui solo tela misura 82 per 111 cm potrebbe essere una grande opportunità anche per il vostro salotto abbiamo ripristinato anche la cornice nella sua bellezza Vanni esce pure perché guarda che bello oro luccicante che oro che va a impreziosire quella che è già l'eleganza del dipinto vedo che c'è interesse eh Dario beh giustamente c'è interesse questo è un quadro sì allora raggiungiamo anche le cose mi chiedono è il gran pubblico stasera vogliamo sapere i segreti di Bruno ora arriveremo subito prego Dario grazie a tutti Allora, professore, dopo la visione dell'opera nell'immediatezza, quindi con la sua capacità veramente di riuscire a identificare forse la certezza anche del soggetto, si può trattare quasi certamente della guerra dei Trentanti, ricordiamo una delle più intense guerre che caratterizzò l'Europa tra il 1618 e il 1648, dove furono impegnati quasi tutti i paesi europei in quella che poi fu anche uno scontro tra il cristianesimo e il protestantesimo, quindi questa lotta apparentemente spirituale, devozionale, che in realtà poi chiaramente come tutte le guerre aveva altri interessi, per Bruno questo è appunto un soggetto da facilmente collocare in quel periodo storico, ciò sottolineerebbe anche la nostra attribuzione al pittore, perché di fatto stiamo parlando di un pittore che è operoso fra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, quindi certamente ha voluto in qualche modo ricelebrare uno di quegli eventi bellici più importanti, più salienti che hanno caratterizzato appunto questa storia. Allora, Bruno immediatamente ha analizzato i soggetti, quindi innanzitutto mi ha veramente affascinato facendomi vedere, perché nei dettagli, anche nel secondo piano, in piccoli oggetti, in piccoli contesti si possono percepire grandi realtà, grandi verità, la figura Vagna della vivandiera, vai a cercarla tu, se sbagli, giovedì non venire più. Eccola la Giudietta, bravo, entra pure, meravigliosa, e vedi la bellezza di poter conoscere veramente a livello storico, a livello culturale, queste figure, questi personaggi che spesso stavano in seconda linea, non figuravano negli scontri principali della battaglia, ma la vivandiera in realtà aveva un ruolo fondamentale a seguito degli eserciti, aveva oltre che la responsabilità appunto dei viveri, come in questo caso, dove allegramente questi cavalieri già parzialmente sobri nella parte di destra, come Bruno ci ha indicato, guarda lì cosa sta combinando, uno ormai rotto la terra, l'altro non esprimo per gli amici da casa, ma dalla postura direi che è abbastanza l'emblema, ma il bello è la realtà dei dipinti veri, di raccontare qualcosa di vero. Avevano anche il ruolo di infermiere, quindi le vivandiere avevano veramente questa duplice funzione di fornire, di fare dei punti di ristoro, chiaramente questo non era per le truppe. Qua stiamo parlando certamente, come Bruno ha ancora analizzato con grande sapienza di come si tratti appunto di figure, di cavalieri, probabilmente porta ordini, visto anche la bandiera che non è escluso sia quella bandiera imperiale tedesca, appunto maggior ragione che confermerebbe il fatto della possibile collocazione storica nella battaglia dei 30 anni, quindi un arco di tempo circoscritto, ciò dedotto anche dalla sua incredibile conoscenza di quella che è la storia del costume. Ricordiamo con Bruno, e io non vedo l'ora davvero, Bruno Tiziana, che voi tornerete qui e lo faremo probabilmente un giovedì sera, se siete i miei ospiti, cena, soggiorno, notte, vitto, tutto quello che potrò darvi, perché abbiamo già fatto una puntata favolosa per quanto riguarda appunto l'importanza della documentazione storica relativa al costume essenziale per decifrare sia la pittura come la cultura, la civiltà attuale, appunto nel Tricorno che tu mi dicevi essere tipico veramente dell'estetica, della ricercatezza, del costume militare fra la fine del 600 e l'inizio del 700, dove poi questo Tricorno diventerà ancora più evidente, questa è la prima forma, quindi ci dà anche la possibilità di collocare a livello storico il dipinto ancora in quelli che erano state le tue intuizioni iniziali, quindi veramente complimenti per queste lucidazioni e la bellezza appunto dell'importanza delle tende, perché? Perché nelle tende, vai sulla tenda, al dettaglio della tenda, puoi decifrare che sono tende degli ufficiali, quali sulla destra, quali erano probabilmente stalle addirittura, perché vedi che ci sono dei cavalli che si stanno rifocillando, chiaramente poi a seconda del grado militare c'era chi aveva la possibilità di avere la grandiera, l'infermiera privata, pranzava veramente in maniera che per il contesto era impensabile per gli altri soldati e avevano anche un punto di ristoro per i cavalli, chiaramente perché erano sottoposti anche a lunghi viaggi, quindi erano i missari che andavano a portare importanti comandi da riferire alle truppe, quindi strategici anche a livello militare, non a caso vediamo che questo contesto è ambientato leggermente in collina, laggiù adesso sì che puoi andare, vai nello sfondo, perché laggiù c'è l'accampamento militare, queste erano le vedette, erano i punti di comando che gestivano tutte le truppe, quindi all'arrivo di questi missari alla tenda e la tenda, guarda un po', abbiamo una tenda con una ghirlanda nella parte destra, nell'alto, eccola lì, e è certamente la tenda degli ufficiali, perché? Perché gli ufficiali avevano appunto queste tende con bandiere con coloro ad alloro, quindi quella con la corona ad alloro e bandiera era certamente la tenda dell'ufficiale comandante, ovvero colui che gestiva tutta la strategia militare del contesto, quindi veramente è uno spaccato essenziale da capire in tutti i suoi dettagli, nella sua bellezza, nella sua importanza, stiamo vedendo i vertici di quelli che era la battaglia, questa non è la semplice battaglia, dove chiaramente sono battaglie favolose, domenica Federico tornerà e vedrai dal vivo uno spettacolo con la meravigliosa battaglia che tu hai commissionato, io ho ritirato oggi stesso, quindi veramente rimarrai a bocca aperta, ma l'accampamento è bello anche nel suo soggetto, così singolare, non è solamente l'aspetto cruento dello scontro, va a descrivere appunto tutte queste caratteristiche, che dire caro Bruno, veramente io non so come ringraziarti, perché mi fai vedere la storia dell'arte come poche persone sono in grado, anche perché tu sei stato un grande viaggiatore, quindi nelle puntate seguenti certamente riusciremo a analizzare, abbiamo già preparato qualcosa, ma poi per telefono mi darà, io vorrei farti parlare anche telefonicamente, sono sincero, perché è inutile ripetere quello che tu mi dici, cioè mi sento onorato di farlo, ma forse anche ingiusto, ma purtroppo abbiamo visto e verificato che al telefono non si sente pressoché nulla, quindi non si riuscirebbe a percepire queste tue sottigliezze essenziali per capire veramente l'opera. Ultimo fattore, la bellezza dei due cagnolini, non a caso marchio di fabbrica del pittore che spesso introduce questa coppia di animali che anche in questo caso seguivano chiaramente un alto grado di militari, chiaramente come guardie vere e proprie anche dall'accampamento, ma al tempo stesso giustamente si dovevano nutrire e chiaramente venivano dati gli scarti di loro, guarda i due cani che litigano per le ossa, lì sotto che appunto c'è forse un femore, non so che se possa essere, ma certamente d'avanzo di un pasto e stanno finendo gli ultimi avanzi, quindi bella anche questa figura che il cane appunto ha sempre avuto un ruolo fondamentale anche a livello di battaglia, non sempre è percepito ma era chiaramente sia per la guardia che per altre mansioni. Io direi che possiamo concludere qui lo spazio che vi abbiamo dedicato perché è veramente Bruno, ci dai queste grandissime possibilità, non vedo l'ora poi che arrivi fra un mese, altre possibilità, abbiamo già in studio qualcosa perché poi è bello cercare veramente qualcosa, va, ne vai ancora pure sul dipinto perché anche questo è un quadro che gli amici da casa dovrebbero guardare con attenzione, la sua bellezza, quadro peraltro sano, in perfetto stato di conservazione, quindi stiamo parlando di una tela pressoché intatta, cornice in stile ma di grande fascino indubbiamente per il suo ricercato oro, per la sua bellezza, quindi amici attenzione perché stiamo presentando grande opportunità questa sera. Concludiamo pure Dario, grazie ai dottor Bruno, un abbraccio forte a te Tiziana, vi aspetto quando volete, sapete che è casa mia e casa vostra, siete veramente le persone squisite, le complimenti ancora perché spero che questa parentesi piaccia anche gli amici da casa perché per chi ama veramente l'arte sapere questi valori aggiunti direi che non è da tutti, uno vi dice che è bello, lo compro, sì lo possiedo, lo posso possedere, lo posso inserire in collezione ma tutti questi virtuosismi direi che sono in pochi a poterli capire. Allora io so che c'è interesse anche per i duranti perché quando Daniel spiegava prima mi hanno detto dei quadri con gli uccelli, presumo siano quelli perché grazie. Esatto, ti detto se può per favore andare sui duranti. Duranti è un altro pittore essenziale perché innanzitutto amici è un pittore singolare, di fatto già nell'analisi della sua scheda ho capito il suo equilibrio esistenziale, questo era un pittore che leggeva, studiava, suonava giornalmente il violoncello quindi aveva questi momenti diversificati di forme d'arte, di cultura e era appunto dedito alla pittura di natura morta, di specie animale viva. Quindi sono rarissimi i casi in cui vengono rappresentati natura morte, veri e propri di cacciagione, morta o statica. Lui potesseva interpretare appunto questo soggetto nella sua bellezza, nella sua viva città. Qui stasera presentiamo addirittura una doppia coppia. Ciò è possibile perché? Perché innanzitutto abbiamo avvenuto il piacere di vedere alla mostra, sempre a Palazzo Tosi Martinengo a Brescia, due opere analoghe quindi che venivano certamente della stessa collezione perché questa è una cornice chiaramente postuma all'opera ma intagliata a mano, quindi forse probabilmente perché erano state reinterpretate in quello che vi dico io spesso, in un contesto a cui andava bene sposare il dipinto con questa esuberanza perché guarda che meraviglia, sembra di richiamare delle specchierine veneziane nel gioco di lacca, oro, quindi grande attenzione anche a quello che era il rapporto fra la tela e la parete dove andava esposta, quindi questa diciamo è un'unicità che poche volte capita di poter apprezzare. Dario abbiamo la possibilità di avere riferimenti visivi per questa opera al 19? Assolutamente sì. Così vediamo se ci fossero anche le cornici, io con Federico abbiamo avuto appunto l'occasione di visitare questa meravigliosa mostra che vi consiglio di visitare, abbiamo già visto Il cibo nell'arte ma Gli animali nell'arte non è stata da meno e c'erano le altre due opere con la stessa provenienza, con la stessa cornice, quindi ciò evince che facessero parte della stessa collezione perché a trovare delle cornici così singolari è chiaramente la descrizione di un boschetto con cardellini e passerotti quindi è un soggetto molto interessante, guardate che bella anche la descrizione del piumaggio delle opere. Se avessimo dello studio Dario il supporto visivo di quello che ho detto allora, le mando dunque innanzitutto sono queste le due gazzette alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, poi abbiamo anche la bibliografia relativa a questo dipinto che era stato pubblicato, eccolo, le pagine in cui l'opera era stata esposta alla mostra Penso sia relativo all'altro quadro questo Dario Quello di fianco Sì, allora Vania vai sull'altro quadro perché è lo stesso scrittore quindi non è che facciamo dei grandi profusioni ma è la stessa medesima paternità Nel secondo caso sempre di durante presentiamo questa composizione di Galli anche a mio avviso, lasciatemi questa mia licenza interpretativa, ma in quel foglio di Verze veramente c'è un omaggio certamente a Ceruti, a uno dei più grandi pittori di natura morta a Lombardia perché lui spesso voleva inserire questa specie proprio perché è tipica delle nostre zone, appunto della Lombardia, del Veneto, la Verza abbinata a questi animali bellissimo il corteggiamento del gallo che va a beccheggiare questa foglia e le due gallinelle probabilmente nella parte superiore addirittura messe quasi su un gradino quindi mi ha dato l'importanza quasi scenografica inserendole in quel contesto in questo caso c'era e c'è, vi faccio vedere se volete, un cartiglio sul retro con la proprietà dell'avvocato Giovanni Brunelli che appunto testimoniava la mostra a Dario che lei ha fatto vedere della pittura brisciana in questo caso non era gli animali dell'arte ma la pittura brisciana nel 6 e nel 700 sempre chiaramente proposta a Palazzo Martinengo da ciò che si denota appunto la committenza aristocratica appunto che il pittore aveva nell'epoca perché prediligendo appunto questi soggetti le scene di caccia erano molto ambite molto ambite perché? Perché appunto come dicevamo in inizio di trasmissione la cultura fiamminga aveva influenzato chiaramente i maestri della natura morta fiamminga di ogni genere avevano fortemente influenzato Venezia per via degli scambi commerciali e culturali ciò facendo anche l'interesse dell'aristocrazia chiaramente dell'epoca era influenzata da queste peculiarità quindi si sviluppò questo grande ricercato acquisto della natura morta in quel contesto quindi con la voglia veramente di possedere il meglio che il mercato di fatto europeo e mondiale proponeva in quel periodo non a caso Brescia era sotto il dominio della serenissima Repubblica Veneziana è un bel gioco Dario, lo so che l'amico da casa potrebbe guardare, faccia così Dario, gli dica di prenotare tutti e due io so che è indeciso, continua a palleggiare lei mi dice questo, quello, questo, li prenoti tutti e due perché tanto alla fine non è obbligato a acquisirli entrambi li può analizzare dal vivo poi chiaro, se li prende tutti e due faremo un'ulteriore carezza chiede di vedere di nuovo l'altro allora torniamo al 19, quello è il Passerotti e questi sono i Gallinacei i Vanni attorno pure sul 19 che non ce ne voglia quel favoloso cagnolino nel mezzo per quello io lo ritengo un'autora morta di una bellezza incredibile attenzione anche a quelli amici a quel dipinto amici perché è veramente qualcosa di unico pittore che nelle biografie ricordiamo appunto come dicevo poc'anzi è stato spesso ricordato per il suo stile di vita arcadico bene, sull'arcadico direi che possiamo confermare uno o due Dario? esatto tutte e due? bellissimo, complimenti all'amico bravo l'amico da casa con chi parliamo in questo caso? col signor Antonio da Parma Antonio da Parma il pubblico di Parma è sempre stato sensibile veramente alla bellezza di quella che è la natura morta non a caso abbiamo diversi collezionisti probabilmente non so se è avvocato che intendo io ma ci sono un paio di avvocati che veramente farebbero carte false per avere dipinte di questa bellezza Dario io stavo andando istintivamente a cercare il campanellino ma noi utilizziamo un meraviglioso squillo di tromba quindi direi che su questo doppia tromba due volte Dario la voglio sentire allora se sono doppia conferma due volte la tromba scusi anche lei non è che o vuole essere pagato a consumo per la tromba non penso bello complimenti davvero ci sono due gioiellini poi guardi sarebbero veramente bene anche utilizzati come pandan hanno più o meno le stesse dimensioni perché poi era cosa sovente che i stessi pittori utilizzassero gli stessi fornitori chiaramente di telaio e tele per realizzare le proprie opere doppia conferma complimenti davvero all'amico questa è veramente una doppietta favolosa Vagna io farei ancora due secondi di delucidazione del mobile perché ritengo il cassettone dei Rovelli per chi ha voglia di comprenderlo e capirlo un mobile unico un mobile davvero pregiato un mobile raffinato un mobile che è da capire veramente tassello per tassello perché qui stiamo parlando del meglio delle benesterie bergamasca quindi della bottega dei Rovelli considerati fra i più grandi ebanisti per la loro maestria nella composizione delle tarsie per la descrizione iconografica di questi soggetti favolosi a volte che sfiorano addirittura al fantastico perché veramente la proposizione ad esempio del leone spesso era composta anche da l'elefante da altre figure che certamente non avevano visionato questi artisti nativi dell'alta valle della valle bergamasca appunto quindi non potevano averli visti ma erano racconti di storia di viaggiatori che poi erano interpretati con passione con dedizione in queste formelle in questi contesti questo è un mobile amici che sono certo non vi pentirete mai di possedere io capisco che l'arredo sia in crisi però non riesco veramente non mi capacito di come nessuno l'ho già presentato domenica è inutile che mi dilunghi a lungo scusate il gioco di parole che mi dimeni a lungo nella spiegazione dell'arredo perché questo è un mobile che dovrebbe parlare da sé per chi la capisce per chi veramente ha la voglia di possederlo questi erano mobili che quando c'era ancora la vecchia lira erano inavvicinabili sono mobili e arredi che chi ha avuto la fortuna di ricercare di trovare sia sul mercato antiquario che magari talvolta come a me ha sottoscritto il successo addirittura a Roma ho avuto il piacere di comprare un letto intersiato che mi ricorderò per tutta la mia esistenza un esempio unico davvero sono arredi che ricordo spesso a livello tipologico sono rarissimi perché questi erano ebanisti che erano principalmente impegnati per una committenza ecclesiastica quindi per grandi sagrestie per grandi spazi ai quali dedicavano intere ore di lavoro giornate mesi quindi riuscire a trovare arredi più profani più più facili nel tempo stesso da essere inseriti anche all'interno delle abituazioni attuali è difficile poter inserire una credenza lunga 5 metri questi sono arredi da camera arredi che si possono custodire in un soggiorno arredi che possono essere utilizzati a volte anche allo scrittoyetto perché di fatto il canterano è una forma di cassettone che sposa anche la funzione di scrittorio nella sua bellezza ma guardate che meraviglia veramente mobile perfetto signori mobile intatto in tutta la sua struttura negli interni nei ferri quindi è una poesia davvero non fatelo sfuggire perché lo proponiamo a 15 mila euro ma questo è un mobile che a mio avviso ne vale ancora 25-30 su quello lì non lo dubbio poi è chiaro lo spazio e quello che è all'interno delle abitazioni non è semplice non è semplice inserirli bisogna avere la forza e l'entusiasmo di credere in quello che secondo me poi diventerà certamente una grande forma di investimento anche l'arredo perché questi non sono arredi seriali non ne vedi due uguali nella vita questo tra l'altro è un mobile celebrativo probabilmente in unziale quindi è il doppio casato che viene appunto identificato sul fianco come Vagna giustamente è andato a indagare da solo bravo Vagna mi piace quando mi anticipi proprio così perché questo è veramente il connubio di due famiglie patrizie che probabilmente hanno commissionato ai rovelli la realizzazione di questo arredo per lasciare traccia anche di questa testimonianza storica arredo da urlo è questo io poi sono bergamasco amici quando vedo questi arredi non lo posso rimanere indifferente allora bene anche per le specchiere se interessa Vagna per i putti poi direi che Dario è pronto perché in quel meraviglioso Sant'Antonio c'è ancora molto da dire abbiamo poi Re Alfonso altro pittore interessantissimo Giampiero Romanò io vi spiego in un istante perché anche questo è giusto che abbia il suo il suo spazio perché lo ritengo anche lui guardate che bello noi abbiamo inserito Vagna tra la natura morte perché di fatto è la reinterpretazione di una natura morte ti dà fastidio la luce lì devo spegnere le bajure ok allora devo spegnere le bajure se no ci addormentiamo quindi lasciamo le accese ricordiamo appunto Giampiero Romanò classe 73 è qui vicino a noi quindi sarà anche piacere potervi ricevere qui se volete ulteriori lucidazioni su quella che è la sua arte appunto io direi che nella sintesi possiamo così farvi capire l'essenzialità della sua opera gli fu chiesto appunto da in occasione di una del design pride se non erro a Castello Casforzesco nell'ultima manifestazione dedicata al design milanese uno dei degli panorami più importanti a livello europeo ricordiamo l'importanza del design milanese tra l'altro è un artista che collabora già da tempo con Cattelan uno dei più grandi protagonisti e Piero Paolo Ferrari veramente due figure fondamentali in quella che è il palinsesto del design italiano negli ultimi anni quindi attorno agli anni 70 fino ai giorni nostri gli fu rivolta questa domanda perché gli specchi un'ossessione o una specie di feticismo e Gian Piero appunto rispose in questa intervista l'idea dello specchio per me è quella di Lewis Carroll al di là di ogni specchio ogni aspetto della vita è regolato da imposizioni speculari e contrarie a quelle del nostro mondo dettato da regole assurde e questo mi piace mi regala l'entusiasmo e la gioia di un fanciullo di conseguenza ho creato un mio mondo parallelo fatto di specchi io veramente vi inviterei a venire a visionare anche ci sarà tra l'altro fra due settimane fra due giovedì un importante aperitivo dove sono stato invitato ma ahimè sarò qui presente con voi perché io non potrò partecipare ma certamente ci faremo poi mandare qualche fotografia dove verrà presentata la sua collezione ricordiamo che l'opera è già un artista quotato a livello internazionale andate pure a vedere sui principali portali di antiquariato di design mondiali non italiani qua bisogna capire in un'ottica un po' più ampia è proposto a 3.800 euro in via del tutto esclusiva ricordiamo specchio a forma di pera legno di teca anche qui ve l'ho voluto posizionare anche perché c'è la ripresa di quel tec che abbiamo già visionato nella comuncina danesa nella parte appunto dedicata alla marina che poi andremo magari a dare un'altra rispolverata per capire l'importanza è un'arte molto interessante mi avviso qui c'è da investire c'è da scommettere ma è un artista nel quale credo molto e sono certo che ha già preso piede ma continuerà e potrà impreziosire con la sua capacità anche le nostre puntate verranno proposti tra l'altro e concludo dei premi alla Vanity Sphere Stories Awards 2019 dove ci saranno tra l'altro Dario Buffon dei protagonisti prestigiosi per quante sono appunto gli sport e il mondo dello spettacolo e della cultura verranno premiati con delle specchiere fatte appositamente da lui in serie limitata sono opere di serie limitata quindi non lo vedi ripetuto una c'è una ne acquisisci io ci credo e a breve appena troverò e avrò il piacere di trovare la mia nuova abitazione inserirò un'opera anche di questo artista come già ho fatto bene Dario si prepari perché è giunto il suo momento Vanni anche per i Putti c'è l'interesse i Putti sono due sculture di barocco un barocco maturo certamente guarda che belli anche nella loro descrizione sono chiaramente in pandan questa sera amici non vogliatemi ma a me piace il rigore compositivo quindi se voleste vedere delle opere avvicinate ce lo potete chiedere tranquillamente non faremo altro che posizionarle vicine Vanni a far vedere anche l'altro perché non sono chiaramente simmetrici ma evidenziano ciascuno quella che è la ricercatezza questo poi ancora di più guarda guarda verso il cielo l'altro si rivolge invece dalla postura chiaramente potevano essere collocati su una balaustra quindi erano due Putti che posizionati seduti davano ancora più l'idea di quella che era forse l'espressione della cultura barocca quindi un continuo movimento anche nella postura guarda che rarità poterli proporre veramente ma io li consiglio davvero a chi ha l'opportunità di posizionarli o all'inizio o alla fine di uno scalone questi sono l'ideale veramente per accogliere chi entra nell'importanza architettonica di uno spazio ricercato anche nella scala anche la signora scusate il signor Angelo la signora Fernanda so che hanno una bellissima casa con un grande scalone quindi potrebbero posizionarli nella parte bassa invitano anche alla salita guarda che meraviglia Vania sono intatti sono perfetti chiaro poi per farli e presentarli io ho fatto con le due basi che penso siano rispettose già di quello che è la dimensione anche giusta però possono essere interpretati a seconda di quelle che sono le esigenze degli amici sono molto belli se si sono caratteristici sono due cose uniche perché trovare due angeli con questa postura con questa idea proposti a 6500 euro signori vi siete addormentati saremo partiti fortissimi Dario ma il telefono funziona perché non è possibile con queste opere che nessuno abbia ancora confermato qualche delizia qualcosa che abbiamo selezionato questa sera grazie Vania tu mi segui alla perfezione in quella che è la presentazione dei due angeli veramente guardate la dimensione sono 111 cm di altezza massima belli anche sul retro chiaramente tutti realizzati in un'unica plancia di legno a parte le ali poi sapientemente incastonate e descritte anche nella parte posteriore quindi questo denota appunto una loro collocazione originale proprio nella possibilità di essere viste anche sul retro l'enfasi barocca quindi lo svolazzare dei capelli il piumaggio descritto anche in questo caso nella sua ricercata composizione guarda che bella anche solo l'ala che è tutto oro zecchino perizoma sempre in oro e poi con appunto una sorta di estofado di plata di fatto quindi con pigmento pittorico sovra posizionato e poi graffiato per descrivere quella che è l'idea del damascato nella parte superiore dottor Pico prego a lei la scea e la regia non ci faccio addormentare perché gli amici ci sono ancora io lo so abbiamo fatto una breve pausa abbiamo ancora circa un'oretta di trasmissione ci sono ancora grandi opportunità quindi amici non mancate assolutamente sì bene Vagna puoi fare questa carrellata e raggiungermi di fronte a quest'opera direttamente dal XVII secolo Sant'Antonio ecco siamo bagna stringi sull'opera e facciamola parlare scuola fiamminga Sant'Antonio Abate in un curioso e strano paesaggio innevato ecco questa è una di quelle opere caratterizzate dalla volontà paesistica dei fiamminghi di conferire una caratterizzazione psicologica proprio tramite quello che è il circondario quello che circonda il personaggio quindi un tutt'uno questa freddezza della campagna fiamminga la neve che accompagna la solitudine dell'eremitaggio di Sant'Antonio che solamente due volte è uscito da questa sua condizione di isolamento una volta appunto per esortare per andare incontro quelli che erano i malati i perseguitati dalle repressioni anticristiane di Massimilino D'Aia e la seconda volta per esortare i cristiani alla fedeltà verso il consiglio di Nicea quindi un santo particolare è stato il primo padre egiziano perché così erano le sue origini del cristianesimo ed eccolo qui retratto nel suo momento di studio con tutti quelli che sono gli attributi che solitamente accompagnano il santo ed è curiosa questa lettura allora abbiamo Sant'Antonio che legge con una lente di ingrandimento il libro dal quale fuoriesce un segnalibro ecco di nuovo quel microcosmo dettagliato della pittura fiamminga si vedono le pagine aperte i singoli fogli guardate la mano le rughe del palmo curiosità è che le lenti sono state sviluppate per la prima volta anche in area fiamminga e sono stati tra i primi a metterli così insistentemente nei propri quadri e allora abbiamo Sant'Antonio che osserva tenendo con l'altra mano il libro appoggiato su quello che è il memento mori questo teschio che tiene rialzato il libro Sant'Antonio con la sua aureola e il bastone con il campanellino tra poco vi dirò anche a cosa serviva e perché era presentato e sul saio scendi leggermente vagna il tau che rappresentava l'ultima lettera appunto dell'alfabeto greco le cose ultime e il destino finale dell'uomo ecco perché è così importante Sant'Antonio in questa rappresentazione come mai c'è il fuoco come mai c'è questo maiale alle sue spalle ecco innanzitutto il sepolcro di Sant'Antonio è stato scoperto nel 561 e quasi 500 anni dopo le sue spoglie da Alessandria d'Egitto sono arrivate a Costantinopoli e poi in Francia a Mots-Sandidie dove è stata poi eretta una chiesa in suo onore e dove poi è stato eretto un ospedale e una compraternita quella degli Antoniani e questa ha la sua importanza poiché qui entra in gioco il fuoco Sant'Antonio era il guaritore era il patrono del fuoco del fuoco di Sant'Antonio detto anche il male di Sant'Antonio questa dolorosissima insomma che affligge con un rossore alla pelle ed era molto fastidioso non difficile assolutamente sì allora lo vediamo direttamente 3800 euro vedete il fuoco allora le misure sono 74,5 per 98 esatto con cornice 84,5 per 109 esatto vedete l'importanza appunto ripetevo del fuoco perché entrano in gioco due storie quella appunto della sua discesa agli inferi secondo la quale avrebbe poi portato distolto il suo maialino avrebbe distolto i diavoli e avrebbe poi raccolto con la punta del suo bastone questo fuoco e lo avrebbe portato agli esseri umani diffondendo il fuoco sulla sulla terra e poi appunto un'altra che è quella che rammenta la sua capacità di guaritore per il fuoco di Sant'Antonio il male di Sant'Antonio entra in gioco appunto il maiale come mai? il maiale e il campanello poiché il fuoco di Sant'Antonio all'epoca si curava con il grasso di maiale si faceva appunto questo unguento per cui i maiali avevano ottenuto verso questa confraternita degli Antoniani uno statuto speciale ovvero potevano circolare per la per l'abazia per la per la città per il paese liberamente e i maiali con un campanello al collo erano intoccabili perché erano quelli che potevano appunto guarire tramite il loro grasso poi una volta fatto l'unguento i malati ecco la spiritualità intrinseca di questo quadro di nuovo come i classici fiamminghi un livello di lettura superiore quindi è pieno di simboli dal teschio alla lente al tau al bastone con il campanello al fuoco per queste due storie appunto al maiale all'altro sull'altro lato la neve e abbiamo anche un confronto che chiedo di mandare dalla regia che è di un successore di un seguace di Paul Brill che ha appunto dipinto una in maniera simile ecco lo vediamo in questo momento vediamo una similitudine tra le due opere quindi anche quest'opera si inserisce un po' nella scia di Paul Brill che un po' che dipingeva principali ritorniamo in studio dipingeva principalmente paesaggi ma anche poi sono arrivate alcune incisioni e acqueforti i suoi paesaggi appunto sono in stile derivante dal manierismo quindi soprattutto dai fiamminghi del del cinquecento notate quella che è la similitudine tra le due opere anche quindi quell'altra conservata non di meno la Southampton City Art Gallery quindi alla galleria d'arte civica di Southampton City come seguaci di Paul Brill Dania per favore fai vedere anche quello che è il paesaggio che si apre in lontananza e ricordo insistevo poc'anzi sulla spiritualità che emerge da questo quadro il primo piano è occupato dal paesaggio da questo sembra quasi di poter rientrare il fatto che il primo piano sia occupato dal paesaggio da questo da questo sentiero che poi continua oltre questa capanna di Sant'Antonio capanna che poi riscontraiamo anche in moltissimi altri dipinti fiamminghi a partire poi dalle opere della famiglia Bruegel pare veramente di entrarvi questa zona lasciata poi vuota solamente col sentiero ecco questa è richiede quasi una una presenza quella dell'osservatore opera caratterizzata da grande emotività un'opera che comunica quel senso di eremitaggio di solitudine spirituale di Sant'Antonio ricordiamo il prezzo architetto 3800 euro 3800 euro è un quadro particolare questo questo paesaggio invernale tra l'altro non è facile trovare paesaggi invernali fiamminghi io devo dire il primo che vedo li vediamo nei musei questo sì ma devo dire che è forse uno dei primi che abbiamo avuto di epoca fiamminga XVII secolo siamo all'inizio del XVII secolo di questo tipo 3800 euro per un fiammingo 74,5 per 98 grande opera e anche quest'opera vi ricordo dilazionabile in 12 mesi perché Arsa Antiqua permette a tutti di poter comprare arte questa è la nostra missione questa è la nostra soddisfazione è l'esperienza che ci portiamo dietro che vogliamo condividere con voi da più di 20 anni quindi telefonate vi sono molteplici modalità di pagamento per le opere abbiamo già creato differenziato anche le nostre trasmissioni proprio per avvicinare l'arte a quelli che sono i giovani collezionisti quindi non vi resta altro che telefonare le opere le portiamo noi in visione quindi non vi è obbligo d'acquisto perché l'opera va visto ma questa è la nostra certezza perché una volta che voi vedete un'opera a parete vi piace attraverso quello che è uno schermo televisivo quello che sarà poi il confronto diretto con l'opera non potrà che essere positivo e da più di otto anni che noi lavoriamo abbiamo questa diretta televisiva abbiamo avuto grandissime soddisfazioni e quindi capite il motivo per cui insistiamo in questo senso nel dire prenotate le opere se vi piacciono guardatele da vicino e se vi ha dato già qualche emozione qualcosa tramite lo schermo insomma non potrete essere confermata dall'esperienza diretta l'arte va vista va toccata dal vero e Arsa Antiqua cerca di portarvi i migliori i migliori dipinti le migliori sculture le migliori opere direttamente in casa vostra concordando poi quelle che sono le modalità di pagamento le facilitazioni che abbiamo previsto per voi bene vorrei adesso lasciare un secondo questo fiammingo per andare Vagna seguimi a vedere un'altra opera di scuola francese attribuita Henry Pierre Picou accademico ci troviamo di fronte a una a una pittura dell'ottocento francese Henry Pierre Picou allievo di Paul de la Roche e Charles Gleyer famosissimo anche per questi quadri quasi sognanti e caratterizzati da un altro mondo una visione diversa del mondo ha dato il suo contributo alla fondazione di una grande scuola la scuola neo-grey con Gustave Boulanger e Jean-Leon Jerome altro conosciutissimo artista di questo periodo un'adorazione del bambino di questo genere è particolare particolare proprio perché riletta secondo l'ispirazione dello stile del gusto accademico ottocentesco francese secondo la la scuola classica e allora vediamo questo bambino guardate poi i tratti la dolcezza di questo dipinto dei tratti e dei volti nonché questo sfumato tipico ottocentesco i panneggi resi magistralmente nel loro nella loro profondità nella loro volumetria quasi scultorea e poi i colori i rosa sono di una delicatezza incredibile ecco questo è un dipinto di nuovo da vedere dal vivo e l'ambientazione poi è quello che rende particolare questa adorazione siamo nell'Egitto con questo tempio alle spalle queste colonne greche quindi anche un misto di archeologia le palme quello che sembra un'alba sullo sfondo e questa è poi la particolarità quasi allegorica la santa con una curiosità questa santa che offre una corona di fiori quasi una cornucopia dell'abbondanza non ha riferimenti non ha delle delle elementi non ha elementi che possano farla riconoscere probabilmente si tratta comunque di Santa Caterina d'Alessandria comunemente presente in altre adorazioni in Egitto insieme ad altri santi quindi è probabile che se lei nonostante poi Henri Pierpiqu non abbia allegato non abbia dipinto dei elementi validi a far riconoscere di quale santa si trattasse anche questo dipinto ha 3800 euro Henri Pierpiqu 1824 1895 un quadro di una finezza incredibile guardate poi anche quello che è l'intaglio della cornice vorrei anche far vedere i particolari vi ricordo che ha dato inizio alla scuola neo-grec in Francia con Gustave Boulanger Jean-Leon Jérôme e Jean-Louis Amon quindi uno stile riconosciuto in tutta Francia all'epoca e addirittura ecco quando sono poi gli scrittori a a elogiare gli artisti è tutto detto anche perché dipende di quali scrittori noi stiamo parlando Théophile Gautier ha scritto di lui lo ha citato lo ha descritto nelle sue opere appunto e anche nelle recensioni anche perché tutti i principali scrittori francesi dell'epoca erano dediti anche alla recensione di mostre di opere d'arte anche Baudelaire ha scritto una critica d'arte in Inghilterra Oscar Wilde ha scritto numerosissime recensioni spesso struncanti di artisti della sua epoca e non raccolte poi in un volume di recente pubblicazione di scritti inediti di Oscar Wilde quindi tutti i principali scrittori poi recensivano all'epoca grazie alla loro sensibilità le opere degli artisti loro contemporanei Théophile Gautier ha scritto anche di Henri-Pierre Piqu elegiando la sua pittura la sua naturalezza la sua raffinatezza e il grado di sogno che emanava dalle sue opere Vagna stringi ancora sull'opera 3800 euro chi volesse un'adorazione del bambino un'adorazione dai toni diversi quindi meno eratici ma più trassognanti più delicati in piena concomitanza con lo stile classico francese ecco questa è un'opera per voi un'opera di grande eleganza poi ad un prezzo che è veramente accessibile 3800 euro la tela misura 66 per 80 centimetri 90 per 103 con la cornice guarda che finezza guarda anche lo sfumato che si ha dietro i fiori sullo sullo sfondo opera di grande impatto scenografico bene prima di far enterare l'architetto ancora una ricordiamo il form di questa sera che era quello di far vedere le opere contestualizzate nel vento assolutamente è stato certo allora adesso vorrei farvi vedere ecco Vagna stringi pure i due ambienti perché questa sera l'architetto ha studiato due ambienti nel quale ha contestualizzato le opere ed è lo scopo di questa puntata quello di riuscire a presentare l'opera d'arte all'interno di un ambiente che può essere quello della vostra casa e così che le opere dialogano fra di loro dialogano con quello che è il mobilio le sculture e le pareti di casa allora volevo appunto per creare questo abbiamo anche di nuovo presentato dei tappeti ecco abbiamo un import abbiamo due tappeti allora adesso voglio Vagna stringi pure su questi abbiamo al momento dalla telecamera il tappeto denominato Melas proveniente da Melas una cittadina della Turchia occidentale che è collocata a 200 km da Smirne famosa proprio per questi tappeti di preghiera molto geometrici 176 per 124 a 7000 euro guardate il geometrismo siamo a cavallo dell'ottocento e novecento ecco sento che c'è interesse per le opere forse per il Sant'Antonio dalla regia 7000 euro altro tappeto interessante Vagna ti chiedo di tornare indietro fai tutto lo studio rifacciamo vedere le nostre opere compreso quel lecceomo fiammingo a 2400 euro ancora parete non me lo spiego e veniamo all'altro tappeto ecco questo è un tappeto particolare anche tappeto Sumac Caucaso a 6000 euro erano tappeti questi che andavano a 10 12 15 mila euro anni fa 195 per 145 anche il termine Sumac è a un'origine di battuta qualcuno lo identifica con una regione geografica dell'Iram con altri con un arbusto utilizzato in Persia che mischiato con sale ed allume dava questo particolare rosso o arancione a seconda delle tonalità questo è un tappeto ovviamente anche l'altro interamente annodati a mano la particolarità di questo tappeto è che era solo posizionale non era reversibile poiché l'altro lato presenta tutte le cuciture e di nodi quindi un tappeto che può essere visto solo da un lato mentre l'altro era reversibile questo dipende appunto come le cuciture ad ago venivano fatte in base al telaio 7000 6.000 euro scusate bene direi che la nostra scusi architetto su cosa allora bagna per favore se puoi andare sulla natura morta precedente che abbiamo fatto vedere ecco dipinto inedito Bartolomeo bimbi siamo a cavallo tra il 1600 e il 1700 guardate la finezza vi ho fatto vedere poco fa anche i riferimenti da Palazzo Pitti che adesso forse rimandiamo dalla regia guardate il vaso i riflessi di luce sul vaso allora si bagna te lo stacco direttamente e te lo inclino forse esatto si subito ecco bagna che sia guardate la bellezza la finezza di quest'opera gli stessi fiori presenti anche in altre opere in collezione a Palazzo Pitti in collezione presentata alla Biennale di Firenze la mostra più importante in Italia la più prestigiosa nel 2001 perché questa è la qualità che Ars Antiqua vuole offrire ai propri collezionisti e anche la credibilità nel poter proporre delle opere come vi ho detto prima musalizzate opere di artisti esposti nelle principali mostre guardate poi le ombreggiatura o le pennellate sottili che definiscono i petali dei fiori centrali spesso nelle natura morte è anche difficile riuscire a rendere una profondità e il Bartolomeo Bimbi sicuramente era un maestro nel riuscire a rendere i diversi piani di fondi di fondo è un gran quadro davvero complimenti all'amico che ha chiamato pochi minuti or sono al telefono aveva visto probabilmente nella precedente esposizione quadro davvero da museo questo è un quadro che si può avere vedere nei più importanti musei italiani e veramente un investimento preciso in qualcosa di unico sono contento di non aver seminato nel deserto Dario perché giustamente l'amico da casa mi chiedeva la cornice non rende giustizia all'opera ha ragione quindi poi nel tal caso ovviamente saranno le nostre intenzioni di darglielo al meglio con una cornice o in stile o antica che ne faccia capire l'importanza Dario se lei volesse preparare i suoi discorsi sulla ceralacca io ci tenerei molto perché ci piace rispettare quello che diciamo e vogliamo vedere in diretta venga pure qua nel nostro salottino a realizzare la prima ceralacca che facciamo per un grande amico un grande collezionista l'amica Riccardo che non si è fatto sfuggire con la delizia di tavola fiamminga anche l'amico Antonio mi è piaciuta moltissimo si complimenta per l'acquisto veramente perché è un quadro unico ha chiamato l'amica Federica da Portovenere giustamente si era collegata purtroppo ha avuto anche lei un impegno questa sera siete arrivati un po' scampio ritardato amici cari giustamente avete forse perso quelle che erano le intenzioni iniziali della nostra trasmissione era appunto quello Vagna scusami questa sera devi fargli straordinario anche tu torno a ritroso era quello di contestualizzare l'arte nella forma più vera più reale che è quella dell'inserimento all'interno delle abitazioni quindi abbiamo creato dei set soprattutto ora andremo nell'altra parte dal nostro caro dottor Picco che ci farà vedere come si realizza una ceralacca tra l'altro questa sera abbiamo diverse opere che presentano sia le ceralacca sia i cartigli quindi sono ulteriori dettagli che possono impreziosire e dare anche la collocazione reale all'interno di quelle che sono state le famiglie che hanno posseduto tali opere chiaramente abbiamo visto per i bimbi addirittura c'è una corona nella ceralacca nella parte alta che è l'emblema appunto di un conte quindi un'improvenienza nobile molto importante certamente ricercato era questo il contesto quindi abbiamo creato una parte più dedicata alla pittura religiosa con una svariata serie che spazia dal rame al numero uno la Santa Caterina il dipinto su Ardesia questi due interni di chiesa San Marco ricordiamo visto anche i fatti degli ultimi giorni speriamo di poterla apprezzare nella sua bellezza come qui è descritta nella metà dell'Ottocento abbiamo questa favolosa Sacra Famiglia probabilmente contestualizzata in una fuga d'Egitto quindi molto interessante anche il soggetto con le palme quindi un quadro vero abbiamo quest'altro interno allora io farei una scaletta perché giustamente ancora da sento il telefono che è qui la chiedono giustamente perché poi alla fine l'onestà la bellezza dell'investimento è anche quella di riuscire ad acquisire opere vere con un giusto prezzo Vagna partiamo dal numero uno allora questa sera abbiamo presentato in anteprima perché questa è una novità anche questa di questa sera olio su rame raffigurante Sacra Famiglia quadro molto bello anche i rami amici con i rami non ti trubate perché i rami sono in piccole dimensioni regalano veramente una grande bellezza proprio nella lucentezza della materia che viene stesa sulla lastra quindi riesce ad avere una brillantezza che è pressoché unica che nella pittura non si può percepire vai con la scaletta Dario siamo pronti allora Sacra Famiglia 2.600 euro abbiamo poi presentato matrimonio mistico di Santa Caterina a 5.500 anche qui stiamo parlando di un tipito ancora fortemente caratterizzato dagli stilemi cinquecenteschi cosa abbastanza evidente in quel panneggio nella parte alta nei costumi stessi questa è la versione della Santa Caterina più bella chiaramente quindi con il matrimonio mistico col bambino Dario c'è il telefono ancora altra gente quindi attenzione non facciamo sfuggire le ultime chiamate abbiamo poi al numero 3 altra opera che sempre in queste piccole dimensioni regala una grande emozione un grande soggetto tra l'altro Olio su Ardesia quindi attenzione anche questa un'altra struttura molto rara pressoché intatta la richiesta è di 3.800 euro 3.800 euro 1.800 euro per le due rocchette posizionate nella parte bassa dello schermo eccole qua vanno a facere gustare anche queste squisite nelle proporzioni veramente hanno un rapporto del rocchetto con la gamba molto interessante in genocchiatoio complimenti l'amico che ha prenotato in genocchiatoio domenica lo stiamo perfezionando nella sua patina e penso che a prossimi giorni le sarà consegnato anche quello in arredo stupendo noce biondo pannellato intagliato anche questo è un arredo pregevole proposto a 3.500 euro coppia di putti Vania fai pure vedere io mi scosto così tu hai modo di far vedere ancora una volta l'insieme della parete che era quello che era la nostra filosofia di questa sera quella di proporvi veramente degli ambienti veri degli ambienti da vivere da respirare come se foste qui con noi per capire quella che è anche la progettazione spaziale all'interno dell'abitazione quindi coppia di putti interessantissimi veramente per la postura a 6.500 euro interno dalla basilica di San Marco siamo a Venezia caso del Tempio veramente un patrimonio dell'umanità a 3.900 euro attenzione ai prezzi signori perché stiamo parlando di un dipinto che misura con cornice 99 per 81 cm a 3.900 euro si possono comodamente direzionare sino ai 5.000 euro a tasso zero quindi potete fare delle formule personalizzate veramente che con poche centinaia di euro vi danno la possibilità di ricevere da subito a casa di apprezzare di amare quello che desiderate da tempo inserire nella vostra abitazione al numero 5 l'adorazione del bambino anche questo un dipinto veramente a 3.800 euro questo Dario io avrei gradito che ci fosse riferimento perché la medesima opera è stata venduta a 7-8.000 euro se noi trovassimo questo riferimento gli amici potrebbero ulteriormente capire che a 3.800 euro si fanno davvero un regalo di Natale perché è uno splendore alla bellezza di un pre-Raffaellita all'emozione di un pittore vero di un pittore che regala nella gioia nella dolcezza degli incarnati del bambino guarda cos'è di bello è una poesia davvero è bellissimo il contesto ambientale perché è una fuga in Egitto un riposo arricchito da questa figura dagli angeli dalla mula nella parte dietro sulla destra guardate la bellezza di quel cielo che dall'azzurro più intenso riesce ad arrivare quasi a un verde metallico nella parte bassa dietro il mulo questa è una cornice davvero amici da 2.500-3.000 euro intagliata in vienio cornice d'esposizione stiamo parlando di una cornice d'esposizione a 3.800 euro cassettone che mai mi stancherò a ripresentarvi perché a 6.000 euro un mobili di questa imponenza di questa importanza Vagna finalmente lo vediamo con un tappeto che gli dà giustizia perché anche l'arredo ha bisogno di un contesto per essere apprezzato è proposto a 6.000 euro 5.500 euro per quell'altro interno meraviglioso di ciappure gotico anche lì interessantissimo è l'atmosfera signori la pittura dell'Ottocento in plenare negli interni è comprare un'atmosfera comprare un sogno comprare un desiderio comprare un sentimento perché veramente ci danno la possibilità a questi pittori di entrare nella mostosità nella bellezza di architetture che tutti conoscono nel loro sviluppo esterno quindi i grandi monumenti tutti li apprezzano chi più chi meno ma hanno un'idea geometrica di come sono rappresentati ma l'intimità la bellezza di questi scorci in plenare vogliono regalare dei segreti dell'intimità delle atmosfere che solo chi è lì presente è in grado di realizzare di farci percepire guarda che bella la luce queste sono proiezioni tramite le vetrate quelle vetrate meravigliose gotiche sulla parete quindi noi non abbiamo non vediamo la luce che entra ma abbiamo la possibilità di apprezzarla proiettata sulla parete anche questo è un quadro fantastico purtroppo per in tre ore spiegare tutto è quasi impossibile ma è un quadro meraviglioso soprattutto proposto alla cifra di 5.500 euro ok si si proseguiamo dare così vediamo arrivo da lei allora 6.000 abbiamo detto i due angeli ok al numero 8 abbiamo proposto questa sera lo zoppo da Lugano pittore interessantissimo con la donazione dei magi a 9.000 euro quindi 9.000 euro abbiamo poi la tavoletta la piccola tavoletta attribuita a noi la cerca di Anton van Dijk certamente è un pittore che abbiamo visto ha preso i suoi prototipi e li hanno interpretati anche qui quadro favoloso quadro da grande collezionista con cornici di stile ma molto interessante perché appunto realizzata in oro zecchino la proposta è di 2.400 amici questa è una grande opportunità abbiamo il cassettone è proposto a 6.000 euro è al numero 10 quadro dato in asta certo a Londogno in realtà a nostro avviso è più da attribuire alla cerchia di Grechetto ma ciò non toglie la qualità dell'opera è veramente la sua evidenza a 5.500 euro abbiamo poi presentato l'accampamento di Kerfurt pittore straordinario 6.800 euro signori stiamo parlando di un'opera che misura 82 cm per 111 la sola tela questo è un altro quadro non farvi spuggire a 6.800 euro al numero 12 una poesia veramente questo l'amica da casa o amico poi è caduta la linea penso non ho avuto più modo di parlare ma ha capito giusto in 3 secondi Dario la bellezza la spiritualità l'intensità del dipinto guardate veramente come questo artista ci voglia regalare anche la bellezza del paesaggio il ricalco vero e proprio della specie arborea con un leggero soffio di neve che va a impreziosire che va a dare quel valore aggiunto all'insieme alla bellezza del dipinto quadro che questo abbiamo non dico rapinato ma ho fatto la fortuna di avere uno stock in una casa quindi ve lo propongo a 3.800 euro non è un dipinto dell'800 siamo in pienissimo 600 qui il dottor Picco lei ha fatto vedere giustamente le matrizi fiamminghe cinquecentesche perché qui siamo nei 50 anni postumi stiamo parlando di un'opera vera di un quadro vero di qualcosa di unico a 3.800 euro amici il dipinto del primissimo 600 misura con cornicio 85 per 109 centimetri per i palati più colti per chi vuole una qualcosa di unico per chi vuole veramente un'opera museale da apprezzare per tutta la vita da lasciare i figli veramente come grande ricordo investimento testimonianza in un dipinto unico che chiaramente è nelle piccole dimensioni che va apprezzato questo è difficilissimo trovare un bimbi di grande dimensione opera che tra l'altro amici questa ho visto sul mercato internazionale è un bimbi di questa qualità almeno dei 15.000 non ve lo fanno neanche toccare quindi a 8.000 euro è una grande opportunità abbiamo poi presentato Gianpiero Romanò con la pera anche questo un quadro un'opera incredibile che poi magari riproporremo se ci darà modo perché è interessantissimo Re Alfonso altro dipinto interessante la natura morta al numero 15 anche questo a 5.500 euro è una grande opportunità questa è la cornice in stile se l'amico da casa fosse ancora l'ascolto io spesso realizzo questo modello perché è rispettosa di quella che è la bellezza l'intensità del dipinto aggiunge solamente una piccola greca che va in qualche modo ad esaltare il movimento la peculiarità dei dipinti delle specie botaniche rappresentate ancora per il bimbi allora un secondo solo sul bimbi ancora Vanni gentilmente perché mi fa decenni di Dario è certamente un'opera straordinaria io sono contento che l'abbiano capita veramente in tante persone perché è un dipinto da non farsi sfuggire allora vi dico solo la composizione guardate la meraviglia del Garofono in alto a sinistra il raccemo di Giacinto Azzurro abbiamo visto nei due esempi di Palazzo Pitti due opere analoghe il tulipano rosso e giallo che già era stato proposto in un vaso di fiori alla Biennale di Firenze nel 2001 abbiamo visto l'anemone bellissima sulla sinistra bagna quella di spalle il vaso stesso di metallo sbalzato molto interessante l'utilizzo della rosa amici non fatevelo sfuggire perché mancano pochissimi minuti allora poi abbiamo la coppia di Nature Morte cassettone a 3.800 euro questo è un alto regalo 3.800 euro gli amici sono addormentati perché non è possibile coppia di specchiere due Nature Morte emiliane anche queste signori per chi ama il collizionismo vero al numero 16 a 6.000 euro siamo vicini a Bogelli quindi grande qualità specchiere che io apprezzo in maniera infinita non capisco perché non abbiano ancora riservate perché in questo due specchiere ha 3.800 euro Dario ne vale una 3.800 euro andiamo dal piccolo alichimista dottor Picco prego ci faccia vedere perché questa è una cosa che dovevamo il nostro grande collezionista che giustamente ci ha fatto capire come la cera lacca sia importante per Dario proprio il timbro quindi noi lo facciamo sulla scheda Dario stiamo anche i piedi per terra non vogliamo far sì che le nostre opere giustamente fai passando di mano in mano però sulla nostra garanzia d'ora in poi meriteremo prego spieghi pure il procedimento allora innanzitutto si mette la cera lacca si spezza e si mette nel cucchiaino e si fa si fa fondere sta facendo una specie di bollitura diciamo del prodotto senza farlo bollire perché se no si brucia ah quindi ci vuole anche un giusto tempo benissimo indiversa direttamente la cera e voilà quel famoso timbro che ha commissionato con la doppia di Arsantiqua che è il nostro simbolo quindi il nostro marchio di fabbrica che ci ha contraddistinto in tutto il mercato ricordiamo amici Arsantiqua non è solamente una televendita è una realtà vera che voi potete venire a visitare tutti i giorni come diceva un amico da Torino siamo vicini alla stazione centrale quindi è comodissimo anche se volete venire vi veniamo a pigliare come abbiamo sempre fatto è un piacere cominciamo a rompere il ghiaccio nelle presentazioni sono circa 5 spazi aspettivi Dario da poter visitare tutte le settimane tutti i giorni ecco qua poi magari perfezionerà anche la sbordatura questa va direttamente al nostro amico bellissimo Dario complimenti speriamo che sia soddisfatto Bagna si vede eccola qua oh finalmente grazie Dario questa è la prima è la prima opera che certifichiamo con questo discorso e va al primo nostro grande amico cliente complimenti opera fantastica tra l'altro complimenti veri Dario la custodisca gelosamente perché è riuscita veramente bene non so quando il libro forrà benissimo allora le candele spendiamo dopo abbiamo poi una copia di comodini per concludere la panoramica mancano circa 10 minuti amici non titubate è negli orari notturni che si fanno le più grandi scoperte io mi ricordo uno dei più personaggi politici più importanti italiano Dario che conobbi nei primi anni della mia esperienza lavorativa nella fila di Vapio che tra l'altro ci ha dato grande soddisfazione anche quest'anno salutiamo anche gli amici i nuovi clienti uno dei massimi esponenti politici italiani passò e giustamente con mio fratello lui poi un po' più forse emancipato di me chiese presidente qual è il segreto del suo successo quando gli altri dormono io la notte penso a 10 e mezzanotte amici avete ancora tantissime opportunità non fatevele sfuggire perché l'arte è un unico non c'è la possibilità di replica non chiamatemi domani a dirmi ah che peccato il bimbi è stato prenotato la tavoletta mi piaceva chi più veloce meglio si accomoda quello purtroppo è una realtà io sto cercando la casa ogni tre giorni vendono casa 350 mila euro Milano non riesco a capire perché con poche migliaia di euro poi si potrebbero anche impreziosire perché avere l'arte è un valore vero che poi tra l'altro ci si può portare nella vita ci può seguire nelle collezioni nelle generazioni fondamentale non è un bene locato è un bene che si può commerciare volendo quindi non è un problema compriamo noi in primis da voi abbiamo poi presentato questa marina che veramente da 2.900 euro una grandissima opportunità un vaso di venine anche questo molto interessante una comuncina danese che nella sua essenzialità esprime veramente quella che è la cultura nordica essenziale ma al tempo stesso ricercata nella purezza dei suoi materiali due meravigliose poltrone stile Verona anche questi due arredi che vi dico sono di una comodità estrema l'altra specchiera altro oggetto che io questo veramente ho venduto nella mia vita ventoline di piccole dimensioni a 2.500 e 3.000 pensare di tenere qui ancora due oggetti di questa bellezza proposti veramente a 3.800 euro la coppia stiamo parlando di due specchiere che misurano 88 cm al massimo della loro ingombra nella parte alta a Mecca tra l'altro Vagna guarda cosa sono di bello guarda che bello anche la picco originale in ferro bordato in legno quindi sono due arredi completi pronti per essere collocati all'interno di un'abitazione con specchi originali a Mercurio tra l'altro non è così semplice neanche trovarle integre per quanto concerne la parte vitrea due lampade mazega che anche quelle le ritengo una poesia per la loro bellezza essenziale questo ventaglio che richiama proprio la cultura veneziana copie di comodini allora cominciamo a spegnere una bajur perché direi che ormai siamo le sgoci della nostra serata e augureremo la buonanotte con l'ultima candela che andremo a spegnere per ringraziare anche i nostri amici che anche questa sera ci hanno seguito complimenti all'amico che non ha avuto dubbi non ha titubato ha riservato i due duranti così ha la possibilità di scegliere quello che meglio si addice al suo gusto estetico o alla sua collezione è rimasta una natura morta altrettanto bella amici perché quella numero 20 veramente io non ci credo che non riusciremo a dare un'attribuzione specifica a quel cagnolino sul cuscino ma guardate cos'è di bello 6.000 euro anche qui c'è una grandissima opportunità tra l'altro cagnolino che sta sgranocchiando dei taralli Dario ha visto è interessantissima anche questa composizione quindi un cane nobile questo spezzettava la fame durante il giorno con dei taralli tipica prelibatezza pugliese se non erro Dario se sbaglio mi corregga cassettone rovelli da urlo a 15.000 euro appassionati degli arredi non sbagliate perché poi cambierà anche il mercato degli arredi finirà anche questa esplosione di monolocali bilocali si tornerà alla tradizione della famiglia vera che vuole arredare la casa con sapienza con gusto con arredi veramente che rappresentano sia la funzionalità reale perché questo è un arredo che si può comodamente stivare personalizzare può essere anche un piccolo scrittoyetto meraviglioso a 15.000 euro questo è un arredo che io non so quando mai avrò la fortuna di riproporre ricordo che in 20 anni di attività di cassettoni così forse 5 le abbiamo proposti di questa bellezza tutto intarsiato in tutte le sue parti dalla ribalta al piano superiore all'interno massello di legno anche questo intarsiato l'intarsio veniva fatto nel legno massello con il traforo quindi al di là della capacità e l'eleganza stilistica del disegno c'era anche una grande necessità per forma di veramente pratica di riuscire a descrivere quella che era la bellezza del disegno anche a livello pratico quindi a livello veramente di intarsi o di lavorazione del legno vero e proprio questo è un arredo che farlo al giorno d'oggi sarebbe impensabile veramente solo per l'utilizzo dei materiali o le capacità ebanistiche degli intagliatori ormai sono praticamente estinti ebanisti in grado di realizzare arredi di tale bellezza allora Dario quanto manca siamo agli sgoccioli ormai no? mi dica lei quando devo chiudere e stringere amici 4 minuti quindi mi dica lei quando potevo salutare gli amici c'è ancora tempo non lo so io vorrei andare forse ancora sul bimbi che direi è una delle opportunità più belle che abbiamo questa sera perché a 8 mila euro vi presentiamo un dipinto tra l'altro con perizia del professore Alberto Crispo di Parma un grandissimo studioso di natura morta che coadiva con noi un po' da diversi anni perché veramente ci siamo affidati alla sua professionalità alla sua realtà alla sua lealtà perché spesso vi danno degli espertis che è chiaro quando vai dai massimi esperti non hai dubbi ma bisogna vedere bene anche poi chi dà il valore aggiunto chi dà la certezza anche all'opera questa è un'opera che come l'abbiamo spiegata questa sera non lascia spazio ad equivoci è un quadro favoloso è un quadro veramente fondamentale per chi vuole intraprendere col passo giusto una collezione o impreziosire una collezione che già possiede nella propria abitazione guardate che bello cos'è di bello riuscire a leggere guarda queste gocce Vania ti prego fai vedere questa goccia questa è una cosa favolosa guarda la sensibilità pittorica di questo artista come riesce a farci percepire veramente la peculiarità botanica la freschezza la bellezza di queste specie questo è un pittore incredibile come lo era il Duranti perché anche il Duranti bravo l'amico di fatto era il precursore di quella cultura che poi diventa nell'ottocento uno dei soggetti principali della pittura lombarda quindi diventa veramente in quelle delle specie descrittive di tutte le specie animali di tutte le specie botaniche attenzione ancora anche al Kerfurt perché August Kerfurt ha 6.800 euro un dipinto di questa dimensione 82 per 111 non sarà cosa semplice di presentarvi amici che amate anche il paesaggio sposato al genere animale quindi l'accampamento di fatto è fra la battaglia e il paesaggio da queste due opportunità è un quadro che spazia in questo contesto quindi non ha la necessità di di avere altri dipinti al suo seguito perché è un unico quindi riesce a sposare queste due dottrine poi in questo caso abbiamo aggiunto tutta quella che è stata grazie ancora al dottor Bruno ricordiamo uno degli spedienti di questa sera era le pillole del dottor Bruno proprio dettagli aggiunti da un uomo veramente sapiente e colto grazie davvero Vania c'era ancora interesse per la tavoletta mi diceva l'amico da casa anche questo è un quadro che piace al nostro amico da Ulla ricordiamo anche la mostra che ci sarà Dario ci sono dimenticati poi purtroppo scusate amici ci sarà l'importante mostra da Ulla dal nostro amico Maurizio dedicata al cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana quindi è uno studio legale che predispone i suoi spazi anche alle esposizioni di opere chiedo scusa purtroppo stasera sono state tantissime chiamate ci avete sommerso di richieste di delucidazioni ricordiamo noi stessi poi riusciremo a coadjuvare magari qualche mostra grazie anche per il meraviglioso dono che ci hai mandato grazie ecco Dario in sovraimpressione la locandina di quella che sarà la mostra torniamo pure in diretta Dario che saluta i miei amici grazie Maurizio anche per il delizioso dolce non ci è ancora arrivato ovviamente perché lo custodiscono gelosamente i miei genitori Federico quindi avrò modo di assaggiarlo in settimana grazie di cuore a tutti possiamo salutare Dario? allora andiamo a spegnere l'ultima nuova giurvania e andremo a letto tutti quindi vi ringraziamo per la vostra partecipazione per chi ha riservato per chi riserverà per chi verrà a trovarci già domani saremo aperti già domani mattina alle ore 9 potremo accogliervi io direi di spegnere le luci sulla nostra serata grazie per la partecipazione poi ci sentiamo quando volete chiamateci o guardateci in replica o venite direttamente negozi a trovarsi da parte dell'architetto da Dario Piccolo e tutto lo sta una felice notte a tutti arrivederci a domenica prossima grazie buonanotte